Benvenuti, se siamo già in diretta controlli immediatamente, se siamo in diretta, questa sera un Barone Rosso molto speciale perché sarà interamente dedicato alle ragazze, avremo cantautrici veramente molto brave, ci sarà grazia di Michele, sì, siamo in diretta. Allora, prima della sigla però, volevo fare un discorso, oggi il giornalismo è a una deriva pazzesca, cioè per ottenere l'interesse deve fare dei titoli eclatanti, prendiamo questo titolo sul fatto quotidiano, Red Ronny, giovanotti alla Zeppola ed è un posto natino. Mamma mia, chiaramente ha preso l'articolo dal Tirreno, Red Ronny, giovanotti, è un pochino stonato, ma vediamo quello che è successo, in realtà, io quando ho ricevuto il premio Burlamacco a Viareggio, durante il Carnevale, ho detto, siccome prima, per giustificare il premio Burlamacco, hanno mostrato quella che poi la copertina su Facebook, cioè le star che ho intervistato, eccetera, io ho detto che in realtà credo che il premio mi venga più che altro perché do spazio a chi non ce l'ha, do voce a chi non ce l'ha e ho fatto il solito discorso che faccio sempre, cioè oggi come oggi i cantanti giovani, i giovani che noi esaltiamo, De Andrè, persino McCartney ha detto che i Beatles non avrebbero spazio, eccetera, e ho citato una serie di nomi. Ecco il momento, l'audio non è granché, però si capisce bene quello che io ho detto. Eccolo, questo è l'audio da cui poi è stato tratto tutta questa roba, eccolo qua. Purtroppo oggi noi stiamo facendo cambiare mestiere a tantissimi artisti, io sostengo che oggi gli artisti che voi vedete, per esempio Paul McCartney ha detto che i Beatles oggi non avrebbero spazio, per esempio, è ricerto che era uno film, non avrebbe spazio, oggi Vasco Rosso non avrebbe spazio, De Andrè, De Gregori, Gaffer, tutti questi, Gino Paoli, lo stesso Giovanotti, con l'affetto, un posto latino, a volte, quindi non avrebbe spazio nel mondo di oggi. Ecco, allora, come avete sentito, io a volte faccio anche delle giustificazioni, perché questi cantanti oggi nei talent sarebbero esclusi, cioè, ad esempio, delle volte dico Gino Paoli, così, team introverso, niente, cupo, oppure, che ne so, Vasco Rossi, un po' scalcinato, oppure, in questo caso, Giovanotti, perché prendi Giovanotti, i giovani, devi pensare a Giovanotti, i giovani, devi pensare a Vasco Rossi, i giovani, devi pensare a Lucio Dalla, quando è con Lucio Dalla, ma, quello affare lì, un po' piccolo, brutto, non bellissimo, poi urla, mamma mia, cioè, per far capire che oggi, con lo strapotere dei talent, e con tutte le case grafiche che si fidano solo ai talent, chiaramente questi artisti non avrebbero spazio. Di tutta questa mia frase, è stato preso questa cosa, il Tirreno, addirittura, il fatto quotidiano, addirittura, l'ha messo, Giovanotti alla sepole un po' stonatino, vedi, poi, chiaramente, vedi, ecco questo, Giovanotti stonatino, in realtà, se poi leggi l'articolo, cioè, così sembra, se poi vai sotto, dice, allora, Redrone dice, in realtà, le sue parole possono inizialmente sembrare un attacco nei confronti del cantante, in realtà, nel suo discorso, Redrone lo paragona i grandi della musica nazionale e internazionale, che oggi non avrebbero spazio, perché i talenti non vengono valorizzati, ecco, quindi, alla fine, io, cioè, un discorso, ormai non puoi più dire niente, perché vanno a cercare qualsiasi cosa tu dica, per cercare dov'è la notizia, good news, no news, cioè, buone notizie non sono notizie, e quindi si va a cercare la notizia pessima, di un intero discorso, cosa posso strappolare per fare notizia? Non stai facendo notizia, lo dico ai giornalisti, stai semplicemente cercando la cosa che puoi, isolando, diventare negativa, perché altrimenti, visto che sei un giornalista di merda, i tuoi pezzi non li legge nessuno, quindi devi fare assolutamente il sensazionalismo, una deriva nella quale è entrata anche la televisione, tutti stanno parlando del caso Riccardo Fogli, l'Isola dei Famosi non aveva più audience, per tirare sull'audience si sono inventati questa storia qui, di digli indiretta che è il corona, di digli indiretta che è il cornificato, quindi poi dopo hanno licenziato gli autori, eccetera, però intanto il corona va da un'altra parte, fanno da un'altra parte, perché? Perché oggi come oggi, purtroppo, funziona solo il grido, funziona solo, io quando ero da Giletti, ho visto Telesi alzarsi, andare verso, stavamo parlando di cose importanti, andare verso la Mussolini, ho capito, e dicendo ma non ti puoi vestire così, mi arrapi di qua e di là, io ho capito che il giorno dopo avremmo visto quella notizia sui giornali, e difatti il giorno dopo, Homepage, Corriere della Sera e tanti altri giornali, c'era quella notizia, perché quella è la notizia, no, quella non è la notizia, quella è merda. Ecco, questo volevo dire, ci tenevo a dirlo, e adesso partiamo con la sigla perché parte un programma che è davvero importante. Condividetela diretta con i vostri amici, condividetela, perché l'unica cosa che vi chiedo, condividere, far conoscere a chi ancora non lo conosce, che qui c'è un'isla, non dico felice, però è un'isla dove non c'è litigio, dove si cerca di dare spazio alla cultura, dove stasera ascolteremo sei ragazze strepitose che fanno la loro musica, perché è una puntata interamente dedicata alle donne. Quindi, benvenuti al Barone Rosso. E' bello confrontarsi comunque col pubblico. Sì, questo è un modo rivoluzionario, questo come vedi, hai fatto tanti programmi di televisione, è un po' strano. Non è strano, è come deve essere. È come deve essere. E questo è il programma, come deve essere un programma di musica. Così, così deve essere la musica. La musica bisogna parlarla, ma poi cantarla, suonarla, riparlarla e risuonarla. Questa è una dimensione che io amo, anche tu? Sì, molto. Perché non è lo stadio, non è il palco, non è, però è la dimensione della musica, è intima. Sì, infatti è bellissimo. Salotto, vinili, divano, chitarre, ampli, perfetto. Tu non devi più amplificare gli intrattenitori. No, devi scoprire le persone sciamane, gli sciamani della musica, gli stregoni. Non abbiamo più tempo della vanità. Come ti ha già spiegato, c'è bisogno di verità, quelli che hanno il filo d'oro. C'è un filo d'oro, o c'è o non c'è. Quindi non è necessario... No, devi individuare chi ha il filo d'oro che riesce a parlare con la parte essenziale dell'umanità. Non l'involucro. Quella fa perdere tempo. Hai capito? Credo che tu lo abbia fatto anche apposta di invitarci nello stesso giorno. No, è stata assolutamente una coincidenza, come è giusto che sia. Cioè la vita è fatta di coincidenze e questa è un'altra delle bellissime coincidenze che capitano sempre dove, stranamente, da Red. Da Red. Lui veramente la gassazione della musica internazionale. In Italia ci sono pochissime trasmissioni che parlano di musica. Questa è una delle poche trasmissioni che parlano di musica, ma è assolutamente l'unica trasmissione che parla di musica con la M maiuscola. Tanti momenti di crisi, tu fai fatica a parlarne con degli addetti ai lavori, no? Fai fatica a raccontare... Cioè, per gente come noi, ma come te, come tu, che sei uno che ha dedicato una vita alla musica, te l'ho già anche scritto, hai fatto più tu per la musica del 97% di quelli che fanno programmi in televisione? Senti, no, ma sai cosa ti volevo dire? Che tu sei uno degli ultimi giornalisti di spettacolo che esistano in Italia. Perché? Perché sei uno degli ultimi che intervista degli artisti, dei cantanti, sapendo quello che loro hanno fatto. Cioè, anche il tuo lavoro ha avuto una deriva diversa. per cui spesso capita di parlare con chi fa giornalismo di spettacolo che però non conoscono chi si trovano davanti, non gli interessa andare a ascoltare che musica hanno fatto. Quindi, praticamente, il contrario di quello che fai tu. Che di solito cerchi di invitare qualcuno che fa della musica che già ti piace. e se no vai, ti documenti e poi ne parli con cognizione di causa. Beh, sei uno dei dinosauri degli ultimi rimasti che fa questo lavoro come si deve. Resisti, perché tu dai voce a tante persone che non hanno voce. Ti prego, ti credo, anche se ci vediamo una volta all'anno. Però io ti guardo e sono attento. Quindi devo resistere. Sì, devi resistere. Sei l'unico, veramente. Grazie, amico mio, ti voglio bene. Faccio questa roba, te lo dico perché posso. Rimè che ti faccio, te le faccia più, non posso. Muore spaccatuto perché a fare freestyle è un colosso. Lo sanno tutti al Barone Rosso. Deo. Barone Rosso TV. Futuro della TV. E seguite sempre il Barone Rosso. Isto è uno buono. O dici, o dici Gigi D'Alessi. Isto è uno buono. Ragazzi e ragazze, siete qui in compagnia di Red Ronne dalla sua postazione di Bologna. Ladies and gentlemen, if you like rock or roll, this is the right place. Oh! Eccoci qua, allora eccoci qua. Dunque, intanto do, questa sera, questa sera avremo un Barone Rosso interamente femminile. Tutte ragazze, tutte ragazze, tutte brave, tutte cantautrici, scrivono e cantano parole e musica fatte da loro. La padrona di casa, Sara Grazia Di Michele, che in questo momento, assieme alle altre, sta mangiando. Io ho sottratto un attimo... Mi tieni a digiuno, mi tieni a digiuno, Red. No, ci vai subito dopo. No, volevo salutare l'unica, no, non è l'unica di quelli che sono venuti, che è già venuta qui, Roberta Giallo, che è Reduce da un tour mondiale. Sì, sono Reduce, sono sopravvissuta e stasera lo racconterò. Stasera lo racconterai, esatto. Faranno anche qualcosa insieme, perché prima hanno provato, eccetera. Ma dove sei stata soprattutto? Allora, sono stata in America, California, Los Angeles, sono stata a Singapore, sono stata in Vietnam, sono stata a Mosca, sono stata in Ucraina. Ne mancano ancora di tappe, non ho finito. Dove devi andare adesso? Devo andare a Monte Carlo e in Portogallo. Ah, e facendo pezzi tuoi? Pezzi miei, sì, sì. Pezzi in italiano, rigorosamente in italiano. Piano e voce. Ma c'era anche stranieri guardarti? Certo, soprattutto stranieri, poi con un po' di inglese per spiegare un pochino insomma chi sono, da dove vengo, perché sono lì. Ho introdotto poi le mie canzoni, però in italiano, perché comunque la musica è qualcosa che può andare anche oltre il significato delle parole. Sì, allora Roberta Giallo è una delle protagoniste stasera, poi ce ne saranno altre. C'è l'altra Roberta che stava riprendendo. Ci sarà, ad esempio, lei è Francesca De Fazzi, che mi ha portato questo, poi avremo Eleonora Betti, che ha questo disco, poi avremo chiaramente la master, la maestra, che è grazia di Michele. Allora, avremo Ilaria Argiolas, che è già stata da noi, ci sarà Claudia Magret e quindi. Allora, tu adesso vai di là, vai a vedere se qualcuno ha già mangiato, perché purtroppo il mangiare è arrivato. No? Chi c'è? La Ilaria? La Grazia? Pronta la Grazia? Allora, vieni, Grazia. Puoi andare a mangiare, Roberta. Ci stiamo, ci stiamo, allora, ecco, grazie. Eccoci qua. Allora, che cosa succede stasera? Perché stasera tu, in pratica, lo presenti quasi tu, il barone rosso. Io faccio solo delle domande, eccetera, però cosa succede? Succede che abbiamo riunito qui delle cantautrici, molto promettenti. È una serata tutta al femminile, si parlerà di canzone d'autore, quindi d'autrice al femminile. Si cercherà di capire che cos'è questa canzone d'autore al femminile e se c'è una differenza con il modo di scrivere dei cantautori, con il modo di esprimere delle emozioni, se le emozioni sono le stesse, se sono diverse, se cambiano le parole, se cambia la forma, se cambia il contenuto. E come oggi una donna nel panorama della musica italiana è inserita, si può inserire e si è inserita con le giuste quote rosa, come dovrebbe essere, e nelle manifestazioni, e nelle classifiche, e nelle vendite, nelle pari opportunità, diciamolo, legate alla musica. Devo dire che è molto raro trovare delle ragazze, delle cantanti che siano in testa alla classifica, che vendono. Guarda, in questo momento, su una classifica di concentro artisti, 5 sono donne e 95 sono uomini. All music, comunque se vai a vedere, se vai a controllare. Anche nell'airplay radiofonico la situazione è abbastanza grave dal punto di vista che... Anche a Sanremo non c'erano donne. Sanremo, ma io sono due anni, è un Sanremo un po' misogino, non so, è veramente strano, perché parte con i balli maschili, i oniditri maschili, i duetti maschili, le canzoni maschili, poi ogni tanto si vedono delle donne. Ma in percentuale è bassissima. Quindi io ho una mia teoria, che mi piacerebbe però condividere con queste ragazze che stanno cominciando a muovere i primi passi, e sapere loro che cosa ne pensano. Perché l'amore per la musica è in dubbio, il loro comune denominatore è la passione e il talento. E su questo non c'è alcun dubbio. Poi c'è una strada da percorrere e bisogna capire se questa strada è facile e capire e ragionare su quelli che possono essere gli ostacoli. Perché gli ostacoli ci sono? Però io ti devo dire che in tutti i contest che ho fatto, eccetera, che alcuni apprezzano anche tu, le ragazze sono quelle che oggi sono più interessanti, che dicono, cioè cantano cose più nuove, le vedi più... Secondo me sono molto più il futuro della musica dei ragazzi. Ma io di questo sono certa, anche perché hanno da dire le cose con parole nuove. E possono parlare di loro non perché ci sono degli uomini che scrivono per loro, ma perché in prima persona raccontano la loro vita, i loro sentimenti. Ecco, emergere oggi che cosa significa? Faremo un sacco di chiacchiere con queste ragazze, ma le sentiremo suonare, le sentiremo cantare, raccontare la loro vita, la loro storia attraverso la musica, che è la cosa più interessante. E si conoscono qua per la prima volta, perché non tutte si conoscono, anzi nessuna si conosce con l'altra. E quindi mi piace anche l'idea che non è un confronto, non è una competizione, ma è un momento di condivisione della musica. E questa è la cosa bella. Ciao Molla, Molla è un artista molto bravo, pugliese, che è venuto la scorsa settimana, che saluta, grazie, sei la numero uno, l'Isperanza, un'altra splendida puntata di Musica Vera, scrive Barsi, riguardo al discorso uomini, donne e renghe, è stato criticato molto, ha affermato che foneticamente, come frequenza, la voce maschile è molto più piacevole di quella femminile. Come gli è venuto in mente? Cioè, ma il momento in cui ha detto, adesso dico questa cosa, perché già pensarla è problematica, no? Poi uno, io sono stata lì a dire, ma forse voleva dire, però non c'era qualche cosa che poteva dire. È stata un'uscita un po' infelice, anche perché questa cosa non è assolutamente vera, assolutamente. Abbiamo delle corde vocali diverse, le donne ce l'hanno più fini, sottili, in grado di avere migliaia di sfumatori e colori che gli uomini non hanno perché ce l'hanno più grosse, più pesanti, più muscolose, diciamolo, e quindi hanno meno colori e meno... Michela Fini, Red, tu hai grazie, l'ha pensata allo stesso modo, è bello questo. Non è vero che grazie, la pensiamo allo stesso modo, su alcune cose. Ad esempio, su una storia della legge, sulla musica non la pensiamo minimamente allo stesso modo. Lei ha fatto un articolo su Opti Magazine. No, io sulla musica italiana nelle radio non la penso come lui, assolutamente, perché trovo che questa storia della percentuale sia molto provinciale e molto legata ad interessi economici e non culturali e quindi questo lo... ma non siamo d'accordo neanche su tante cose legate alla vita, alla morte, su tante cose. Però su una cosa andiamo d'accordo. Io la penso, come diceva prima Gigi D'Alessio, come dicevano altri, penso che Red sia rimasto l'unico in questo momento in Italia, ma veramente l'unico con la L, a dare spazio, a cercare spazio e a darsi da fare per cercare nuovi talenti e per trovarli un po', e la cosa bella è che abbiamo un'età, abbiamo un sacco di storie alle spalle, ma l'altro giorno abbiamo trovato un ragazzo che scrive in una maniera particolare e subito lui ha sentito il disco e senti il disco e io sento il disco, ma senti che bella questa, senti che bella quest'altra, come non siamo né discografici né produttori, siamo delle persone che amano la musica e ci siamo entusiasmati per la bellezza, no? Questo ragazzo che ci sta guardando, sa chi è, ciao, tanto ci sentiamo presto. Pensa che Carmen Consoli, pensa che Grazie Michele è la mia preferita, te lo giuro, Grazie Michele e Paola Turci sono state le cantanti a cui mi sono ispirata, quando avevo 13 anni e le ragazze dei Gauguin e bambini, a me sembra proprio amore, ecco, questa ha detto Carmen Consoli, sapevi tu? Sì, Carmen Consoli ha detto delle cose molto belle, molto carine su di me, anche sul piacere di fare musica, che l'ha un po' scattato, io sono contenta, lei la stimo molto, lei, ecco, è una che va per la sua strada, è libera, è una ragazza libera. Partiamo con la musica? Partiamo. Con chi? Le facciamo entrare una per volta o tutte insieme? Ma intanto possiamo farle entrare tutte insieme? Ma sì, le presentiamo una per una, tipo una roba. Avete mangiato? Avete mangiato, chi è che ha già mangiato? Vedo che tutti ci hanno... La Roberta sì, ma la Roberta l'ha già avuta, Roberta Giallo. Allora, vieni Claudia. Claudia sta mangiando, sta proprio mangiando. Ma pure io stavo mangiando e sono venuta qui, che solo io. Vieni, vieni, vieni. Vieni col cibo, Claudia, bello far venire il cibo. Vieni dietro col cibo, dai. Claudia, vieni col cibo, vieni col cibo. Certo, col cibo, vieni col cibo. Vieni col cibo, non ti preoccupare, vieni dentro. La dieta è da domani. La dieta è da domani. Allora, vieni qua, Claudia. Ciao Claudia. Allora, poi chi c'è ancora? Buonasera a tutti. A Roberta l'abbiamo vista, vieni Eleonora. No, anche lei col cibo. Anche lei col cibo, vieni Eleonora, vieni. Non ti preoccupare, vieni col cibo. Vieni Eleonora. Ecco, Eleonora Betti. Eleonora Betti toglie la chitarra. Poi Ilaria. Ilarietta. Ecco, c'è anche Ilaria Argiolas. Aspetta che prendo il mio microfono. Eccolo qua. Ilaria c'è un puffetto. Ma Ilaria hai mangiato tu? Sì. Voi già prende la chitarra? Eh? Federica. Perché dobbiamo parlare di musica. Francesca. Francesca. Perché la chiami sempre Federica? Sai che io vedo delle facce per me hanno un nome? C'è Federica lei. Lei c'è la faccia Federica. Però si chiama Francesca. Si chiama Francesca. Che la conosco da poco Francesca, eh? Da pochissimi. No, ma ha telefonato una sera dicendo c'è una matta scatenata che ha fatto una canzone su un perizoma. Sono la blusarola io. La blusarola. La blusarola. Allora, visto che parliamo di Roma, allora Ilaria Argiolas, Ilaria, devo dire che mettere in riga delle donne è un po' un casino. Ah sì. Siediti. Ecco, cominciamo subito con Ilaria. Sì, cominciamo con Ilaria. Cosa fa Ilaria? Quella lì. Attacca la chitarra. Lei è attaccata? Allora, Ilaria Argiolas, prima cantautrice di questa sera. Oh, questa sera ragazzi. Fai cantare grazie alle ragazze di Gauguin, la canzone che mi hai cantato con Rossana Casale, non è quella. No, quella di Gauguin, quella degli amori diversi, comunque. Ma hai chiamato le tue amiche per dire... Stanno guardando. Ho capito, ma lo puoi già dire? Posso dire, mi hanno detto, che posso dire che c'è una sorpresa in arrivo che riguarda me, Rossana Casale e Mariella Nava. Una grande sorpresa. Ok, faranno un tour insieme. Allora, c'è una grande sorpresa. Cioè, non è che diciamo che siamo incinte contemporaneamente. Non è che potremmo fare una canzone. No, no, fate un tour insieme, sembra giusto, scusa. Va bene. Allora, bello, mi piace molto perché sono tre ragazze bravissime. Grazie per le ragazze. No, siete ragazze. Quelle ragazze di Gauguin. Senti, fra l'altro, a Grazia di Michele... Stavo dicendo. A Maria Lanava. Stavo dicendo che in questa manifestazione che farò al Teatro Golden, poi magari ne parleremo un attimo, che è una manifestazione con cantautori e cantautrici della Vecchia Guardia, ci sono giovani e giovani cantautori e cantautrici che apriranno i concerti e Leonora Betti aprirà il concerto di Mariella. Si sono incontrate alla conferenza stampa e poi Mariella l'ha ascoltata e gli ha fatto dei bei complimenti. Invece questa signorina qui, Claudia, aprirà il concerto di Siria. Per loro è una cosa nuova, no? Sì, ma di fatti, una cosa che mi trovo molto bene con Grazia, perché quando noi facciamo delle cose, poi non è che abbiamo fatto le cose e poi ci dimentichiamo. Infatti, lei è venuta con me a Fiat Music, eccetera. Lì c'era la Claudia Megret. La Claudia Megret, dopo è andata a casa sua, ha cominciato a lavorare insieme. Poi quella va con quella, poi quella va con quella. Poi la Ergiola stiva di qua. Insomma, si sta creando un'alternativa. Siccome non c'è spazio, perché non ci danno spazio, noi ce lo creiamo. Cosa canti, Ilaria? Beh, in onore a questa bella serata vorrei farvi ascoltare, vorrei proporvi un brano che ho scritto che si intitola Siamo Tante. Siamo Tante? Sì, in onore a noi. Ilaria Argiolas. Siamo grandi già da bambine, con l'abitudine a cambiare. Siamo strade senza fine, e partiamo per ritornare. Con l'urgenza di vivere, sempre pronta a saltare gli ostacoli. Diverse e tutte uguali, a un passo sempre dalla scelta giusta. Sempre in cerca di emozioni, facciamo tutti i conti col passato. Con la paura di aver sbagliato, viviamo oggi, domani, chissà. Siamo tante in questo mondo, siamo più della metà, siamo vere nel profondo, fatte di sangue e d'aria. Siamo stelle allo sprofondo, mattoni dell'umanità. Prese solo dal lavoro, siamo mamme senza figli, a vivere una vita come fossimo bagagli. Troppe crisi di identità, facciamo gli uomini al posto dell'uomini. Siamo tante in questo mondo, siamo più della metà. Siamo luce sullo sfondo, fatte di sangue e d'aria. Siamo vere nel profondo, mattoni dell'umanità. Siamo tante in questo mondo, fatte di sogni e di realtà. Siamo tante in questo mondo, siamo più della metà. Siamo vere nel profondo, fatte di sangue e d'aria. Siamo stelle allo sprofondo, mattoni dell'umanità. Siamo tante in questo mondo, siamo più della metà. Siamo tante in questo mondo, fatte di sangue e d'aria. Siamo tante in questo mondo, fatte di sangue e d'aria. Senti, la Federica. La Francesca. Lo so, l'ho detto apposta. Ormai tu stasera sei Federica De Fazio. No, De Fazio sei. Adesso ti ascoltiamo. Vai Claudia. Claudia. Vai Claudia. Cosa fai Claudia? Allora, pensavo di farvi ascoltare una canzone intitolata Identità e quindi adesso ve la racconto lì o qui, la racconto qui. Allora, praticamente mi trovavo seduta a un bar della mia città, che è Napoli, io sono napoletana e io osservavo nell'attesa, aspettavo sicuramente qualche amica o amico in ritardo. E quindi guardandomi intorno ho immaginato di perdere la personalità per strada e quindi di sporgere una denuncia per recuperarla in qualche modo. E quindi così è nata Identità. Entità. Vedete, idee particolari, sono delle idee. Come vedete queste ragazze non hanno traumi, sono serene, hanno dei pensieri normali come quello di trovare un buon marito, fare dei figli. Certo, no, ma sì, le donne che cantano vogliono fare anche le mamme in realtà, dobbiamo sfatare questo mito che la donna che canta, cantautrice, musicista, anzi, saremo mamme creative. Ok, vai, senti, mentre lei si prepara con Identità, allora tu ti sei, ti stai occupando un po' di questa ragazza. Sì, la cosa particolare è che io non è che me ne sto occupando perché mi interessa la sua musica, mi interessa la sua vena tragicomica che ha dentro di sé. Perché lei, guarda, no ti giuro Red, veramente mi devi credere, io l'ho sentita e mi piaceva. Poi è venuta a casa mia, ha preso il trenino, è arrivata a casa e ha cominciato a raccontarmi la sua vita, quindi io non è che ho ascoltato le sue canzoni, ma è una vita rocambolesca, fatta di tragedie che lei raccontava ridendo. E io ho detto, questa è strana, è matta, però è anche sensibile, è anche profonda, è anche buffa. Lei è veramente molto buffa. Ma in realtà la tragicomicità è molto partenopea. È napoletana, di fatti dice, ah, è napoletana, ecco perché. La consigliamo però in generale dell'affrontare con una vera ironia. Va bene, infatti. Senti, fai conto che lui è il commissario, quindi cantala a lui, tu fai il commissario qua. Ma no, ma veramente sei tu che sei esperta, c'hai anche la cartellina. Sperta, qui serve un uomo che fa il commissario, vai, fai che devi... Vabbè, allora, identità, lei è Claudia Megre, da Napoli. Ecco. Sta accordando. Ecco, dopodiché siamo partite a guardare un po' di cose che lei ha. Ah, questo brano qui l'aveva messo, non si sa dove, e gli ho detto tiralo fuori che è buffo, come te. Ilaria, io ti ringrazio per la chitarra. È la tua chitarra, però. Allora, io comincio. E quindi... E casca, cascava un po' il micantino. Ok. Allora, vi faccio ascoltare questa canzone intitolata Identità. E quindi io mi trovavo in questo bar, sfogliando un dépliant. Oddio, ho smarrito il mio io, l'altro giorno giù in città. Ero al centro a fare un aperitivo, e guardavo la gente pestrata. Tutte alte, magre, belle, palestrati, depilati, mentre sfogliavo il mio dépliant. Tra le foto di modelle perfette, avrà pensato, di me cosa resterà? Tutte si confiano le tette, si pompano i bici, 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 bici. Vivono di shopping e parlano di gossip. Tutti, tutti persi per l'estetica e tutti sognano Hollywood e l'America Matti, si venderebbero le mutande per il posto in televisione Identità, entità, di voi che cosa resterà? Quei chirurghi maledetti che ci rendono perfetti e ci levano le particolarità Identità, entità, di me che cosa ne sarà? Qui ci stiamo pecorizzando, siamo tutti quanti uguali Fatti con uno stampino ed io mi sento un biscottino E, e, divorato dal mondo moderno E, e, e A che l'ispettore guarda, vi dita la signora e le dice La prego signora si calmi, mi dia modo di organizzare i fatti Senso io l'ho smarrito in città, però adesso chissà dove sarà Lei non si deve preoccupare, deve solo riacquistare il suo carattere e la personalità Altrimenti se ne incontra per strada, di sicuro non la riconoscerà Oggi siamo tutti quanti uguali dai capelli agli stivali Con gli stessi modi e toni, con gli stessi cellulari Persi nella routine del quotidiano Non osiamo andare contro mano per non risultare fuori moda In tasca, con lo specchietto per la posa Identità, entità Di voi che cosa resterà? Quei chirurghi maledetti che ci rendono perfetti E ce ne vanno le particolarità Identità, entità Di me che cosa ne sarà? È un progresso da regresso che ci cambia con notati E statura tutta la semplicità Identità, entità Di me che cosa resterà? Quei chirurghi maledetti che ci rendono perfetti E ce ne vanno le particolarità Identità, entità Di me che cosa ne sarà? Qui ci stiamo pecorizzando Siamo tutti quanti uguali Fatti con uno stampino Ed io mi sento un biscottino Identità, entità Identità, metà Ispettore la ringrazio di cuore Adesso giuro che mi darò da fare Ritorno ad essere più personale Così io alla fine ritrovo il mio io Io alla fine ritrovo il mio io Io alla fine ho trovato il mio io Ti è piaciuta? Che facciamo pure la placa? Ci stai anche tu Roberto Roberta vieni Guarda ci stai, ci stiamo tutte Guarda Sì guarda Allora Lo so che ti piaceva questa ragazza Mi è piaciuta molto Lei la conoscevo già, devo dire la verità Questa canzone mi piace molto Perché getta un occhio sulla realtà odierna C'è una verità Cioè non dice una verità Cioè è vero che questo mondo ci vuole un po' uguali E secondo me la battaglia Diciamo così che un artista fa In realtà sarebbe il contrario Anche se poi gli si chiede Che la gente si immedesimi lui Quindi è questo paradosso anche secondo me Poi non so lei chiaramente come l'ha inteso Però secondo me un artista deve avere il coraggio Di essere originale E basta essere se stessi poi Però anche lì le dinamiche sono difficili Insomma conservare la propria autenticità È il proprio io in un mondo che appunto Sta sempre a cercare i voleti perfetto Come uno stampino, come un biscottino Però ci stanno pecorizzando Cioè anche simpatico come parola Ci stanno pecorizzando Sì sì Ma infatti Allora sono moltissimi complimenti per te Per la voce, per il brano eccetera Però si cade Voce graffiante, bellissima Che include Eddie Gallis Poi Genaro Auriello Dice un po' Daniele Silvestri Ma dove? No Cioè Ma pure Manco lo conosce lei Guitarsinger dice Influenza di De Andrè Ma questo è sempre uomini però È sempre uomini È sempre uomini È strano De Andrè però su questa Ma no lo so Ma non so Sai uno deve scrivere Proprio un biscottino Luca Berti Quindi Adoro Claudio Mi piace tanto la sua voce Allora Giorgio Gabri in Gonnella No Dario Pien No Ma perché deve somigliare per forza qualcuno? Non so brava Claudio Siamo un'artista già avviata comunque Chico Lanzarote Sì sembra Sembra Però è una pischelletta Grazie Ottimo Allora Ricambio comunque i complimenti a Roberta Perché anche io ho avuto modo di ascoltarla ed è bravissima Ma difatti adesso l'ascoltiamo Adesso 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 Diamo Roberta Roberta Prima di ascoltarti Subito così Sì è un rodaggio Quindi adesso Ah ok Va bene Però lì hai un pacchetto Vabbè questo è un regalo per te Che cos'è? Che ti porto dal Vietnam Che è? Da questo tour Visto che metto Quando In realtà dovevi fare un video Ma gli ho fatti i video Ho portato tu dopo E ci avremo tempo È un regalino Adesso aprilo È un portafortuna Poi tu redami gli animali E quindi ho pensato di portarti Un gattino Questi portano soldi Io auguro sempre che i soldi arrivino A tutti Oh è importantissimo Guarda Roberta Eh c'è Vedi c'è il suonaglino Tu non sai come Come questo Va fatto suonare Ecco E porti i soldi Porti i soldi Il gattino porti i soldi Gattino Ecco Gattino noi ne abbiamo bisogno Ma tanti Capito Gattino tu non sai Io voglio poi bene agli animali Voglio bene Roberta Bravo Hai capito perché Roberta può sempre venire da me tutte le volte Sai gattino Dal Vietnam Dal Vietnam Io tenevo per i vietnamiti Contro gli americani E ho Mi sono battuto Sì Non si stagliscia Pure il gattino No te lo dico Te lo dimostro I.S. Assassin Delivrele Vietnam I.S. Delivrele Vietnam Allora Roberta Intanto si siede Noi cantavamo Recitavamo nelle proteste Contro l'U.S. Vuol dire United States Assassini Liberati il Vietnam Quindi io comunque Col Vietnam Ho delle cose Infatti mi ha fatto molto strano Vedere il presidente Trump È stato un caso Da noi Allora Io sono stata a Ho Chi Minh A Ho Chi Minh sei stata Sì 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 E com'è Ho Chi Minh È una città sicuramente in crescita In espansione Tra grattacelli Super lusso E povertà Però ho notato una cosa La povertà di Ho Chi Minh Secondo me è una povertà dignitosa E non è una povertà sola I poveri fanno comunità Sono stati in America In California Vedi i barboni Che a volte fanno comunità Ma li vedi anche soli Come qui in Italia Lì I poveri in qualche modo Fanno vita Mangiano per strada Chiacchierano E quindi È come se avessi notato Che nella povertà estrema Perché vedi delle case Di 4 metri quadrati 5 metri quadrati Dove dentro c'è lo scooter Il lettino La cucina Però fanno comunità E quindi Il senso probabilmente Di appartenenza Può aiutare A sentirsi meno soli Perché un male Dei nostri tempi Secondo me È la solitudine Cioè stare in mezzo Alla gente Ma non sentirla Quindi stare soli In mezzo a 2 milioni Di persone Invece lì Che sono 9 milioni Di persone A Do Chi Minh Secondo me C'è uno spirito Comunitario forte Poi tra scooter E ciabatte Perché lì si vive Con la ciabatta Lo scooter Lo scooter diventa una casa Vedi le persone Che mangiano lì Dormono lì Però c'è anche Tanta ricchezza Dormono anche sullo scooter Ho visto una bambina Dormire su uno scooter Mangiano Usano lo scooter Proprio come se fosse Una dormez Tu li vedi Proprio accomodati lì Ma come Lo scooter è un motorino Poi ci sono le foto Gli scooter sono proprio A centinaia Dopo mi mostri le foto Che cosa canti? Allora io sono stata qui Tante volte Quindi mi perdoni Chi magari Forse riascolta questa canzone Non ricordo se l'ho già fatta qui Però visto che sono Tornata da questo tour mondiale Titolato Astronave gialla World Tour Voglio fare una canzone Che parla del volo Perché secondo me Gli artisti volano E questa canzone Parla delle idee Che secondo me Sono nell'aria E si acchiappano dall'aria A volte capita Che qualcuno peschi La stessa idea È vero che delle persone Possono avere La stessa intuizione In quel caso Non si copia Poi c'è anche Chi copia Quindi questa canzone Parla sia Delle idee Di una donna libera Che non vuole sposarsi Insomma Adesso l'ascoltate E basta E chi l'ha ascoltata Magari se la impara meglio Galileo Ho visto per caso Una vela E su un nio Toccata in testa Una mela E in base Al volo Degli uccelli Sì Si prevedevano Giorni brutti e belli In aria In aria Preparerò La mia impresa Straordinaria In aria In aria Ti urlerò Che non mi sposerò Le idee Sono nell'aria E lo dimostra L'arte culinaria Tu sei la mela Che addenterei Sei il bocconcino Che assaggerai Le idee Sono nell'aria E lo conferma L'arte visionaria Tu sei il miraggio Per cui svenirei Sei lo stregone A cui crederei Re 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 La mia intenzione Sarà temeraria Come un paracadutista Nell'aria Ma di sicuro Non è temporanea La mia idea Di volare È nata spontanea All'aria All'aria Guarderò Guarderò Che mi aspetterei Dal basso E mi dirai Attenta Stai Ed evita Di cadermi Addosso Le idee Sono nell'aria E lo dimostra L'arte culinaria Tu sei la mela Tu sei la mela Che addenterei Sei il bocconcino Che assaggerai Le idee Sono nell'aria E lo conferma L'arte visionaria Tu sei il miraggio Per cui svenirei Sei lo stregone E a cui crederei Re, 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 re Tu Volando 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 Un po' Spando Oh 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 No Oh Bravissima Le idee Sono nell'aria E lo dimostra L'arte culinaria Tu sei la mela Che addenterei Sei il bocconcino Che assaggerai Le idee Sono nell'aria E lo conferma L'arte visionaria Tu sei il miraggio Per cui svenirei Sei lo stregone A cui crederei Re, re, re Pa, da, da, da Pam Paraparola Pam Paraparola Pa, 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 di, 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 pam Paraparola Pam Paraparola Pam Pam C'è chi si ispira e poi chi copia, chi ispira e poi chi copia, chi ispira e poi chi copia. C'è chi si ispira e poi chi copia, chi ispira e poi chi copia, chi ispira e poi chi copia. Quando sento che c'è un pubblico a cui può interessare, perché poi anche le canzoni, in base a dove le fai, in base alla situazione, e siccome stasera abbiamo Grazia Di Michele che io ho seguito una donna di grande cultura, che è importante, e quindi ho pensato, dico, ma lo diamo, dai, il pezzettino finale, che può essere per le menti che amano scervellarsi poi, no? Sì, allora dopo con te parleremo, intanto voglio farvi vedere un attimo, così vi rendete conto, siamo in diretta, aspetta qui, su roxybar.tv, chiaramente sulle pagine Facebook mie, di Opti Magazine, di Grazia Di Michele, questa è la pagina Facebook di Grazia Di Michele, di Roberta Giallo, ecco la pagina di Facebook, di Ilaria Argiolas, di Claudia Megre, eccola, di Eleonora Betti, eccola qui. Eleonora, un consiglio, io cambierei questa foto, questa qui, perché non rende giustizia la tua bellezza. Quindi, quindi... Ti ringrazio per il consiglio e per il complimento. Poi dopo abbiamo Francesca De Fassi, eccola qui, non page, anche lì poi chiaramente siamo su YouTube e siamo anche su Opti Magazine, non page su Opti Magazine, praticamente siamo in contemporanea, poi c'è Facebook, YouTube, Periscope, dovunque. Allora, chi c'è adesso? Guarda, ci sono, cioè sia, visto che stavamo parlando di Eleonora, facciamo Eleonora. Che cosa fai Eleonora, dai il microfono, cosa ci canti Eleonora? Dunque, tanto voglio cociare, Eleonora ha questo disco, Il Divieto di Sbagliare, dove hai un corpo tutto pieno di fiori. Sì, sono fiori dipinti. Perché volevo che questo Divieto di Sbagliare fosse in realtà un messaggio di rinascita, qualcosa di uno strappo rispetto alle convenzioni, rispetto al mettere tutto dentro a delle caselle bianche o nere della vita in cui è impossibile stare e che a volte fanno veramente anche esaurire le nostre energie. Invece questi sono fiori di vita, sono fiori di chi vuole vivere la vita, la vuole sperimentare, anche cadendo a volte e poi ci si rialza. Che canzone fai? Vi canto 40 volte, che è stata anche quella che poi ha dato il via, insomma, a questo lavoro un anno fa e ve la faccio sentire. Allora, vai, nel frattempo vieni qui mentre lei si prepara. C'è una domanda per Roberta Giallo perché dice Nicola Gabbas, domanda indiscreta, stai facendo un tour mondiale, stai avendo anche soddisfazioni economiche? Beh, rispetto a qualche anno fa, sì, sì, sì. Io prima non vivevo di musica, era quasi impossibile, devo fare qualcos'altro. Invece negli ultimi tempi, certo, non navigo nell'oro, ma finché dura sono veramente orgogliosa e felice di poter vivere di musica, della mia musica. È una cosa che non... c'è voluto del tempo, tanto, tanto. Non è possibile uscire dall'Italia, però, mi pare. Ma, oddio, allora, diciamo che per sopravvivere, prima che uscissi dall'Italia, già sopravvivevo. Poi, naturalmente, è vero, cioè, uscire dall'Italia è una cosa che è capitata perché uno va a volte a cercare là delle soluzioni possibili, quando è impossibile entrare da altre parti. Ad esempio, non ho ancora fatto un Sanremo, non ho ancora... E a volte, però, se uno va a scovare un po' nel curriculum, trova che magari ho fatto teatro, ho suonato con le orchestre, ho fatto dei dischi, ho aperto il concerto di Stingo, ho collaborato con Lucio Dalla, nel suo disco, con l'onna sonora di Lucio Dalla. Insomma, ho fatto tante cose, eppure, diciamo così, la gente che guarda i canali ufficiali magari non mi conosce, perché giustamente non ho fatto Sanremo, non sono passata per i talent show. Quindi è come se il mio pubblico lo prendessi un po' alla volta. Io ero già stata a Hong Kong due volte, mi è capitato molto spesso di cantare anche negli istituti di cultura. Cioè, ho fatto tanto, ma magari mi manca quello scatto finale, perché magari la gente per strada possa dire, lei è Roberta Giallo. E quindi l'estero, secondo me, il mondo è una piazza importante, non va sottovalutata, perché quando tu dici, non so, mi chiudono le porte qua, mi prendono le là, ma perché non provare fuori? La musica è un linguaggio universale, basta sapere un po' d'inglese, che sto cercando tra l'altro di imparare sempre meglio, perché poi non sono mai soddisfatta del mio livello in generale. E quindi, ecco, scusate, io poi devo stringere, rispetto alla domanda che mi ha fatto il ragazzo, com'è chi si chiama? Nicola, ecco, penso di aver risposto alla tua domanda. Sì, però vedi, lei, contrariamente a quanto io le consigliai, ha fatto, ha provato di fare un talent, eh? Io, allora, in realtà non ero d'accordo, nel senso, a suo tempo, c'erano delle persone che mi hanno detto, prova a fare il provino, io veramente contro voglia, lo feci. E tu all'intera? X Factor, ma fu un provino, morte e finito lì, nel senso che arrivai ai giudici, ma non arrivò in tv, tra l'altro appunto felice che non sia arrivato, oltretutto. Anche perché io avevo portato una mia canzone, perché volevo arrivare lì come una cantautrice, invece mi fecero portare un pezzo di sia, e quindi, insomma, arrivata lì, poi mi dissero che ero bravissima, così però che ero troppo strana, che muovevo le mani, poi ogni giudice chiaramente deve dire quello che deve dire. No, ma io ho delle allieve bravissime, veramente molto brave, che sono andate a fare dei provini, sono un po' cicciottelle, sono un po' in carne, belle proprio perché sono anche in carne, e a una è stata detta, è stato detto che non c'erano le taglie, evidentemente, se fosse entrata dentro. A me è stato detto, sei bravissima, ma più cuore ci vuole, che io non so, al cuore ce lo metto tanto, è una vita che ci metto cuore... No, questa non c'era proprio la taglia, c'era un problema anche, non c'erano i vestiti della taglia di questa qui. E un'altra che era entrata, quattro sì, era già sicuro e tutto quanto, poi è stato detto che non era nel target, allora loro dicono sarà una questione anche di fisico, perché come cantava prima Claudia, no? Cioè bisogna, anche le donne devono anche fisicamente avere degli standard, no? Di bellezza, di carineria, cosa che gli uomini, magari in Italia, una galleria di mostri infinita, però mostri, nel senso bello del termine, no? Non hanno bisogno di essere belli ai tanti e invece le donne hanno sempre bisogno anche di... Vabbè, stiamo uscendo fuori, lei sta lì al piano che... No, fra l'altro c'è Giuliano Sangiorgi. Ah, grande Giuliano. Giordano, Giordano Sangiorgi, scusa. Giuliano Sangiorgi. Che è il boss del premio MEI, che dice ci vediamo a maggio su Rai 1 con Roberto Giallo per il premio dei premi MEI. Sì, diciamo che, ecco, addirittura è arrivata la RAI a casa mia, grandi soddisfazioni. Cioè? Per un'intervista ci sarà uno speciale a maggio. È questa la sorpresa che mi dovevi dire? No, no, la sorpresa che ti voglio dire riguarda un viaggio a San Francisco, però dopo perché... Sì. E no, diciamo che sì, è venuta, tra l'altro siamo in tema con la RAI perché ci sarà uno speciale proprio sulle donne, cantautrici, e io sì, ho vinto il premio dei premi del MEI, sono stata premiata, tra l'altro l'anno successivo ha rivinto una donna, quindi grande il MEI, che ha premiato per due anni due cantautrici, e quindi sono stata però invitata appunto da Cinzia Fiorato, che sta curando questo speciale, per parlare proprio del mio percorso, di quello che penso della donna nella musica. Io ad esempio ho detto, perché a noi hanno sempre dato la voce... Io non mi definisco una femminista, attenzione, io credo che ci siano bravissimi uomini, bravissime donne, uomini che non mi piacciono, però è un fatto. La musica in Italia, chi la scrive, chi dà la voce alle donne, nella maggior parte dei casi, gli uomini. Pochissime sono le donne che riescono a dare a volte voce agli uomini o alle donne stesse, o a darsela da sola. E quindi questo è un percorso, non dico una battaglia, ma un percorso che va battuto. Allora, Roberta Giallo, adesso ascoltiamo insieme. Sono molto curioso perché io non la conosco, perché per la prima volta, questo non è mai successo, io ho affidato il programma a Grazia di Michele. E l'unica cosa che ho detto, guarda, avevo già dato un ok a Roberta Giallo, le ho mandati link e lei ha detto... Assolutamente sì, ma certo ci mancherebbe. Tutte le altre le ha scelte lei, quindi io sono molto curioso, è la prima volta che sento Eleonora Betti. Il brano si chiama 40 volte. 40 volte, sì. E allora prima ve lo suono, poi magari dico due parole su questo pezzo. Se ti sembra troppo, pensa che non è abbastanza, di 40 volte, 20 sono per se basta. Mi dire che avevi ripetuto proprio bene, e sapevi già a memoria fare solo male. Quella di matematica l'aveva detto, che se ripeti tanto è male, proprio non ha senso. Se ripeti tanto è male, non è mai abbastanza, di 40 volte, 20 sono per se basta. Fai la vittima che poi alla fine, se ti piace, raccontare il tuo destino amaro da subire. E se tutti stanno male, è sempre un mattipare. Tu sei il capofine, tutti pronti li a seguire. Quella di matematica l'aveva detto, che se ripeti tanto è male, proprio non ha senso. Se ripeti tanto è male, non è mai abbastanza, di 40 volte, 20 sono per se basta. Credimi sempre come se fossi capace a vivere. Credimi sempre come se avessi coraggio più di te. Hai un rosario fatto delle tue stesse parole, che sei brutto ogni sera piano a recitare. Sono impacchettate come in un congelatore, così tanta roba finta fresca da mangiare. Quella di matematica l'aveva detto, che se ripeti tanto è male, proprio non ha senso. Se ripeti tanto è male, non è mai abbastanza, di 40 volte, 20 sono per se basta. Credimi sempre come se fossi capace a vivere. Credimi sempre come se avessi coraggio più di te. E credimi sempre come se fossi capace a vivere. Credimi sempre come se fossi capace a vivere. Quella di matematica l'aveva detto, che se ripeti tanto è male, proprio non ha senso. se ripeti tanto è male non è mia abbastanza, di 40 volte 20 sono persa e basta, quella di matematica l'aveva detto, che se ripeti tanto è male proprio non ha senso, se ripeti tanto è male non è mia abbastanza, di 40 volte 20 sono persa e basta. Eleonora Betti, allora brava, poi quando ti vai a rivedere ti scorreranno i messaggi, vedrai tutti i complimenti che hai, bravissima, complimenti, grazie Nadia Mondanzieri, a grazie di Michele per avercela fatta conoscere, bravissima Eleonora, splendida serata, splendide luci sul divano e grandi anime, tutte brave, grande Eleonora, adoro questa canzone, Valeria Papaleo, la conosci Valeria Papaleo? Però ti conosce, lei conosce te, visto che adoro questa canzone, sono tutte bravissime, ah sì giustamente Carmine scrive, ascoltate per una volta senza l'esigenza di commentare e o giudicare, perché uno scrive ad esempio tutti gli danno a cercare i paragoni, ecco Roberto Seguro dice questa ragazza che canta ora al piano assomiglia alla cantante dei Fishback, gruppo elettropop francese, io non li conosco neanche, li conoscete voi? Io non ho mai sentiti però, è un'ideonanza mia. No, ma è che loro devono fare i fighi, cioè devono trovare le somiglianze, hai capito? Valeria... Posso dire una cosa, allora, a parte che non somiglia a nessuno secondo me, ma poi è la sua storia che non somiglia a nessuno, qui c'è una professoressa di matematica, con cui lei evidentemente ha avuto un rapporto particolare... Sì, ma la storia è semplice... Aspetta, aspetta, prima di raccontare, sto potendo sentire una cosa, Filo io posso far parlare loro anche dal microfono con cui cantano? Non è bellissimo, dice. Allora Eleonora, vieni qua, nel frattempo si prepara la Francesca De Fazzi, No, non la becchi proprio, hai capito? Allora, racconta la storia, mentre ti prepari tu Francesca. Allora, quando io andavo al liceo avevo questa insegnante che ci invitava in modo anche abbastanza deciso, un po', io ero un po' intimorita dalla cosa, non solo a studiare in senso quantitativo, ma soprattutto qualitativo, e quindi dice, ragazzi, attenzione che se non studiate bene, prima dovete ripetere 20 volte, poi dopo però, quando avete finito di ripetere, avete imparato male magari, e dopo dovete ripetere altre 40, la cosa giusta, perché va anche rimossa la prima informazione. E a me questa cosa mi aveva terrorizzata. Eh, ci credo. E dopo di che però ho pensato che effettivamente a volte capita anche di farlo fuori dai compiti a casa della scuola, insomma, magari di ripetere, ripetere le cose, investire anche un sacco di energie, ma magari non accorgersi di farlo in modo forse non ottimale, e quindi essere anche scontenti di noi stessi dei risultati. E allora era una canzone, insomma, anche che voleva un po' cercare di scardinare questo sistema e andare invece verso le cose che ci fanno bene, che ci portano, insomma. Lei è toscana, eh? Lei è toscana, lei è di Milano, lei è di Roma, lei è di Napoli, io sono di Roma e... Aspetta prima però, però volevo... No, è bolognese, dove sei tu? Io ormai è bolognese, io sono di Senigallia, marchigiana, però milanese non me l'ha mai dato nessuno. No, ma stasera grazie non c'è, chiama quella Federica, tu... No, volevo dire, intanto volevo salutare, volevo salutare Valeria Quarta che ci sta guardando, che dice, mi dispiace non essere lì con voi, è meraviglioso ascoltarvi da qui, che potenzione. Infatti l'avevo invitata, ma non può perché è piena torre, è rientrata da Parigi. No, ce n'erano da portare, ma veramente... No, ma non riusciva, non riusciva Valeria. Valeria fra l'altro ha vinto insieme a lei e insieme a Cumi. Fra l'altro Valeria, ho il tuo trofeo Fiat Music qui, quindi quando verrai... Voglio dire che Valeria, Cumi e anche Claudia saranno ospiti di un festival che si sterrà su Marte, vicino Napoli a Suma Vesuviana, dove canteranno con una bellissima orchestra, quindi io da lì, da quella sera, le ho chiappate e portate anche lì dentro. Vedi, quando ci sono possibilità... Questo è il discorso che facevo prima, che noi andiamo avanti e continuiamo a lavorare con queste ragazze. C'è una domanda per te, grazie, che è una roba... Allora, Andrea Seminara scrive, ciao Red, sono degli AFA. Volevo salutare tutti voi e chiedere, grazie di Michele, se la prossima settimana, il giorno 17, la masterclass sarà a Catania. Sì, vicino a Catania, ma perché chi ha... Allora, c'è una persona... Visto che aveva chiesto di noi, vorremmo avere maggiori informazioni. Tu avevi chiesto di voi, di loro, degli AFA. Gli AFA! Gli AFA! Ma sì, l'abbiamo visti con te insieme a Sanremo. Gli AFA! Carini! Sì, ci sono il 17, a Masca Lucia. Ecco, mi è venuto adesso il nome esatto. Fatevi vedere, ok? La De Fazzi fa blues, ha suonato con il grande Roberto Ciotti. Allora, mi spieghi chi è questa qui che mi ha portato, al di là del fatto che, vedi, bring... Perché oggi mi hanno detto, ah, la blues woman, e io dico, ma non lo so, perché io non so nulla di queste, me ne porta grazie. Però qui vedo un riding into the blues land, viaggio nella terra del blues di Francesca De Fazzi. Poi mi dirà che cos'è. Poi dopo mi ha portato un anello, perché lei fa degli anelli dove incastonato c'è un plettro di chitarra. Quindi per chi suona chitarra... Hai capito, ma è bellissimo, perché questo tutto lo sficchi, suoni o li metti dentro? No, come no, ok. No, guarda, la Ilaria Argiolas è già... No, la Ilaria... No, guarda, guarda, guarda. Guarda, questo c'è il plettro, si sficca, si suona, si rimette dentro ed è anche bello l'anello. Adesso sta cercando anche per personalizzare. Sta benissimo, grazie. Grazie. No, sta benissimo. No? Sicuro? Ilaria, in teoria, sarebbe per me, perché me l'ha regalata a me. Però siccome io la rincontrerò di sicuro, questo io lo posso regalare a lei, visto che ci tiene così tanto. E tu, Ilaria? È contenta la creatura. No, perché l'ha vista e ha detto... No, è fichissimo, bellissimo. Guarda il suo. Ma li fai proprio te? Li fa male. Il suo c'è Jamie Hendrix. Il suo c'è Jamie Hendrix. Bellissimo. Sì, è mia mia sorella, lo devo dire. Grande. Grazie, grazie. È rimasta contenta. Mio. Mio. Sai perché? Al limite, se me lo fai con Jamie Hendrix, sono felicissimo. Come il tuo. Certo. Eh? Allora, tocca a te. Sì, in pratica noi ci conosciamo da 15 giorni, da pochissimo, perché ho scoperto che lei abita di fianco a casa mia e quindi anche lei è una che gira con la chitarra dietro la schiena. Però io non l'avevo mai sentita suonare. Per cui a un certo punto, un giorno è venuta a sentirmi, io ero con Claudia, suonavamo a un locale di Trastevere che si chiama Big Star, perché anche lì la spingo, no? E lei era nel pubblico, io non l'avevo mai sentita, le ho detto adesso suonerà Francesca De Fazzi, quindi la poverina stava bevendo tranquilla e l'ho catapultata sul palco. Perché l'hai catapultata? Perché, non lo so, io non la conosco proprio, mi dava la sensazione che ci fosse, che fosse una brava. A quel punto l'abbiamo catapultata sul palco e ha cantato una canzone di una che si è persa a casa di qualcuno, non trova il perizoma, una roba esilarante, ma veramente esilarante. Che io ho detto, ma come... no, vedi, una cosa del genere, un uomo non la potrebbe scrivere mai, no? Che non trovo la mutanda, no? Poi uno suona anche con che fai rima. Eh, ma con che fai rima. Vedi, non trova il perizoma, con Roma, ecco. Allora ho detto, questa è veramente buffa, anche lei. Allora è venuta a casa mia e abbiamo creato questo duo che si chiama Duo La Birra. Sì. Io e lei. E in questo Duo La Birra noi eseguiamo delle canzoni insieme, improvvisate. Ma partiamo con un duo La Birra o con lei da sola? No, con lei. Con lei. No, va bene, adesso l'era. No, però il perizoma lo facciamo alla fine, perché io ho sentito il testo, perché prima ho fatto la testa. È meraviglioso. È perfetto per chiudere, la canzone del perizoma è l'ultima, perché è perfetta. Perché dice, me ne vado a casa, devo andare a casa, devo andare a Roma, che è poi la verità. a quello che accade. Quindi adesso, fai un pezzo tuo. Ok. Ok, cosa fai? Allora, potrei fare un pezzo del mio prossimo album? Sì. Che è in inglese? Sì. Ma quella, scusami, quella della... No, quella che mi hai fatto sentire a casa della fancazzista. Ah, facciamo quella. E questo è un pezzo vecchio. Beh, fancazzista è notevole, pure siamo sulla linea, è notevole. Poi fai quell'altra. Posso una cosa tecnici? La chitarra nel monito. Abbasso la chitarra nel monito, aspetta, la basso da lì. Comunque, a parte perizoma, scrive delle canzoni molto belle in italiano, eh? Stiamo a scherzà. C'è un pezzo, un trust ever blues, diciamo. Bluesarola. Un po' funky però questa, eh? Nata a galla di un'allusione avvolta da una camicia Attratta dagli insetti per terra e cortei contro la guerra Da anni ho fatto un patto di sangue con questa chitarra Credo alle favole per cinquanta euro una birra Sono un artista, fancazzista, un idealista in fuori pista Un utopista, materialista, via dalla mischia Io sogno come coccimazione all'erba sotto il cemento Ed in regalo un ventilatore alle bandiere senza vento Seppure come un pesce fuori d'acqua mi difendo Non scordo il cognome d'ogni commento, stai attento Sono un artista, fancazzista, un utopista, materialista, un idealista in fuori pista Via dalla mischia C'è ancora chi mi crede è una pazza E chi mi vorrebbe una brava ragazza Ma niente mi scoraggia Sono un'assancia selvaggia Sono un artista, fancazzista, un utopista, materialista, un idealista in fuori pista Via dalla mischia Via dalla mischia Un'assancia selvaggia Via dalla mischia Via dalla mischia Fantastica Senti Adesso ti chiedo di fare una roba Poi dopo tu preparati perché tu vuoi fare la birra insieme a lei Adesso facciamo un po' di una birra Sì, sì, aspetta prima Prima ti leggo alcuni messaggi Poi dopo ti chiedo una cosa A Z Productions scrive L'ho sentita La seguivo ai tempi di MySpace Fantastica MySpace Ti ricordi MySpace? Che una volta si stai a MySpace Sai cos'è MySpace? C'è un momento di vuoto Era il primo Ah, giusto Era musicale Allora, sentita la stazione della birra Fantastica La rima Luisa Pixi è artista Fancazzista E strepitosa Mi piace un sacco Brava anche come chitarrista Poi dopo Simpatica Questa artista fancazzista Bravissima Ecco la conferma Che le donne sanno dire tutto con originalità Gloria Vince Poi, poi, poi Ce ne sono tantissimi Allora Ti chiedo una cosa Perché prima l'hai accennata C'è un brano Che io amo moltissimo Se tu la inquadri lei E tu fai Guardi Inquadri la Janice Joplin Che c'è di là Nello studio Quindi Stacca sulla telecamera Che va su di lei Filo Ecco Tu guarda di là Guarda perché C'è un pezzo di Janice Joplin Che mi piace moltissimo Dove lei chiede al signore Di regalargli una Mercedes-Benz Perché i suoi amici hanno la Porsche Eccetera Lo sai fare, no? Io ho anche la versione mia Quella giornata Se vuoi Da farti sentire Cioè Janice Joplin Nel 3000 Allora Fai quella giornata A questo punto Faccio un pezzo Un pezzo Va bene Dai Oh lord Won't you buy me A Mercedes-Benz My friends are dry portions I must make amends Work hard all my lifetime No help from my friend Oh lord Won't you buy me A Mercedes-Benz Oh lord Won't you buy me An electric car I'm tired to spend money At the petrol bar I know you can plug me And drive me so far Oh lord Won't you buy me An electric car Oh lord Won't you buy me An Apple TV An Apple TV My friends are watch my sky In fact in HD I wait for delivery Each day until three Oh lord Won't you buy me An Apple TV Okay now Lord Won't you buy me A Mercedes-Benz My friends My friends are dry Panda I must make amends Work hard all my lifetime No help from my friends I said Lord Won't you buy me A Mercedes-Benz Electric Make amends Fantastic Questa versione è fantastica Perché chiede di comprarle Non più una macchina Ma una macchina elettrica Perché dice Basta col petrolio E poi dopo chiede Dice un Apple TV Perché i miei amici Guardano My Sky E invece io voglio Voglio Apple TV Quindi questa rivisitazione Senti grazie Sarei ora che tu vai lì E fai il duo la birra Che non sapevo esistesse Anni di onorata carriera Beh ma perché il duo la birra È nato una settimana fa Eh ma che canzoni fate La tua chitarra Qual è la tua chitarra Funziona così Che Lei viene a casa mia Eh Parla con quello Ehm Poi dopo l'appoggi lì sono Parla con quello Lei viene a casa tua Parla con quello Oh questa è la mia grazie Sì E lei viene a casa mia E suoniamo Eh E allora l'altro giorno Lei mi faccia sentire Le sue canzoni O le mie Siccome quando a me A mia sorella Ioanna ci viene La stupidera Scriviamo delle canzoni Cretine Allora ho scritto Questa canzone con lei Che si chiama Eh L'amore molesto E a lei è piaciuta Tanto E quindi si è lanciata Nel suonarlo con me E quindi Non è che abbiamo fatto Tutte queste prove Però partiamo Il duo La birra Se puoi presentarci Perché pensiamo Di avere un futuro Appoggia il microfono Lì sopra Appoggialo lì sopra Io adesso Faccio una presentazione Bene Allora abbiamo Allora abbiamo L'onore Di Assistere Questa sera A un debutto Importante È il duo La birra Che detto così Sembra uscire Da un film di Totò Però Grazie di Michele Grazie Michele E Francesca De Fazzi Insieme Hanno creato Questa che è la prima Canzone Che hanno composto Insieme Amore Molesto Il duo La birra Mi raccomando Quando dico così Così come devi fare Ci vuole il jack Nella chitarra Se non metti Il jack Nella chitarra È rimasta In quella Della Argiolas Eccolo Allora rifaccio La presentazione Qui l'aria Che serata strana Questa Allora Bella Bella però Stupenda Ma non avevo Mica visto Tutti quei tatuaggi Eh lo so Vabbè ci sono Mi sono sempre Stato Sì sì Adesso Allora Il duo La birra Amore Molesto Il tuo amore Mi dava L'acidità Non l'ho mai associato Alla felicità Con le tue lettere Ho fatto rigami Qualche barchetta Prevalentemente aeroplani Lanciati in cielo Ma Impigliati nei rami Quando il tram De Desideri È arrivato Al capolinea Ho detto al controllore Che ero scesa prima Perché l'amore E la pazienza Hanno una data Di scadenza Meglio staccare La spina E farne senza L'amore è molesto L'amore indigesto A volte l'amore È soltanto un pretesto L'invito alla fiera Della vanità All'amore è riassunto Dei cioccolatini Straziato dal suono Di mille violini Poi appassito Tra i fiori di Bach Tra i fiori di Bach Tra i fiori di Bach L'amore è una certa complessità Ma si attende Il lavoro alle banalità Lo chiami, lo cerchi Se ci sei Dammi un segno Ti arriva un relitto Aggrappato ad un legno Io ti salverò Tu non ti salverai Ah, l'amore è funesto L'amore è maldestro Che si prende tutto E non dà mai il resto Ti lascia un sapore Così, così Ah, l'amore è rubato Dei cioccolatini Straziato dal suono Di mille violini Poi appassito Tra i fiori di Bach E ancora Tra i fiori di Bach Tra i fiori di Bach Tra i fiori di Bach Penso che avremo un futuro Tra i fiori di Bach Vai avanti Tra i fiori di Duola Birra Oh yeah Ci stanno già dicendo Che domani vanno a cercarsi Il Duola Birra Adesso vanno a cercare Non c'è Non esiste ancora niente Ragazzi È un'anteprima che vediamo Chiaramente No? Siamo mettendo sui repertori Adesso Esilarante Appassito tra i fiori di Bach Stupendo Allora Ma che forti Aspetta Qui c'è di tutto La musica Carmine Questa è la cosa più bella Perché succede anche a me Quando vedo qualcosa che mi piace Carmine Bonacci Accordi di solo ora Che da più di un'ora Ho il sorriso stampato Sulla faccia E l'animo leggero Dalla loro maestosa musica Effetto donne Bello questo Che carino Grazie La bionda La chitarra scordata La bionda La chitarra scordata Che sarei io o lei? Sono entrambe bionde Quindi Però sai Che ne hai capito Grande ironia Tutto femminile Che figata Grazie Ti hai visto che sei lì Fai un pezzo tuo Cioè Faccio un pezzo mio Esatto Allora Ilaria No Francesca Vieni di qua E noi abbiamo Da questo disco Lo fai? Boh Non lo so Grazie Cioè Posso fare un pezzo Mi piace Mi piace Allora Questo è un disco Che ha fatto Grazie di Michele Che si chiama Folli Voli Ed è tutto Interamente dedicato A cantautrici femmine Quasi tutte straniere Tranne un pezzo suo Che ha scritto Con Bungaro Quelle robe lì Non so cosa tu voglia fare Guarda Posso fare un pezzettino Di un brano di Caglia Che è una cantautrice Polacca Sì E poi un pezzettino Di Bungaro Magari del pezzo Sì Se qualcuno Dira fuori Il mio capotasto Ce l'hai lì Il capotasto Vieni qua Tu Francesca Siediti Tanto c'è spazio Questa è una Poi andremo nel mondo Con Roberta Giallo E' scordata Mi spiace ma qui Fai una roba Fai venire Roberta qui Che cominciamo a parlare con Roberta Nel viaggio Allora Vieni qua Roberta Prendi quel microfono E lì prendi quel microfono Roberta Allora Vieni qua Allora Mentre lei accorda le chitarre Vediamo un po' Ho Chi Minh Vedo qui c'è scritto Ho Chi Minh Esatto Ho Chi Minh Parlavo prima del Vietnam Qui ad esempio mi sono trovata In una Aspetta scusa No no aspetta Ho fatto un casino Allora Ho Chi Minh Con calma Red Basta tornare indietro No 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 Allora Ritorniamo No perché avevo fatto l'anteprima Invece credevo Devere Invece non avevo aperto il file Allora Ecco Roberta viaggio Esatto Ho Chi Minh Come diceva è stato uno degli ultimi viaggi Gio Cimine Singapore Ma questi sono dei cantanti di piano bar Gio Cimine Roberta tutto ciò è di una tristezza indicibile Tutto ciò è di una tristezza indicibile Perché noi non siamo abituati Questi sono Una zona povera era Come potete vedere No Però erano gioiosi Come vedevi Lui canta Gli altri mobili Uno con la chitarra in mano L'altro col tamburello Eccoli qua Si usa così per strada Qui invece no Sono nel luogo Dove ho suonato Pronta per l'intervista Mi ha intervistato Billboard Vietnam Billboard Vietnam Sì ecco infatti qui Ero pronta per l'intervista C'è anche lo speaker Si accegge a fare Un'intervista Ci sono i cameraman Giornalisti Ma in che lingua parlavano inglese In inglese E cosa ti hanno chiesto? Mi hanno chiesto un'intervista approfondita Quando ho cominciato Perché ho cominciato Ecco Qui è questo divano Appartenuto a Michael Jackson Ah un divano appartenuto Michael Jackson Esatto Sì perché ho suonato In questo prestigiosissimo Grattacielo E quindi praticamente Poi non ho resistito Questa è tutta giada Tutta di giada Tutta di giada vera È un ascensore di giada Rivestita tutta Qui la mascherina Perché c'è smog Ah c'è smog E vedi le persone Che girano per strada Con le mascherine Quindi a un certo punto Qui è il maialino Che porti i soldi Come il gatto Esatto Ok Adesso Torniamo indietro Questa è Rao Chimin Ah ecco Los Angeles Los Angeles Los Angeles Vabbè qui L'aereo Ma c'è la partenza Ok E vabbè Los Angeles Vabbè Grande qui Partenza Palme Io ho adorato le palme Che le ho rincontrate appunto Anche in Oriente Qui è The Walk of Fame Hollywood Insomma non ho potuto Non fare un girettino Hollywood Far finta di fare la star Ovviamente No come vedi Esatto Yellow Chiaramente tutto ciò che è giallo Per te va benissimo C'è un sacco di giallo E qui The Walk of Fame Vabbè qui Marilyn Qui Elvis Questa l'ho messa per te Ma Los Angeles Città meravigliosa Calda Anche se quando sono arrivato io Poi ha nevicato Cioè nel senso Purtroppo Purtroppo Sì di fatto ho visto Vasco Quello istituto italiano di cultura Dove ho ottenuto un altro concerto Non hai incontrato Vasco Lo sicuro Esatto Qui tra l'altro L'istituto di cultura italiano Dove Insomma E questo Tu impazzisci Delle scarpe che ho amato Eh beh certo Ne hai comprate E costavano troppo Mi sa Forse sui mille dollari Ho detto Ecco Devo fare qualche concerto In più Mi sa Per poter acquistare scarpe Ah vabbè Questo no Un video un po' scemo Un video un po' scemo Perché c'è una storia Dietro questa cosa Ando stiamo Robè A Beverly Hills A Beverly Hills A Beverly Hills No perché Una come a me Che problema tenesse A Los Angeles Il famoso film di Verdone Era un po' come De Sica Io praticamente Banana Republic Sai che il 29 marzo Sarò a Roma Perché quello c'è Insieme a Carlo Valente Un cantatore romano Rifacciamo il quarantennale Di Banana Republic Il disco di Dalla De Gregori E a Los Angeles C'era Banana Republic L'ho fotografato E qui era Visionaire Los Angeles Dove mi sono esibita E qui Vabbè Sono un po' di foto All'interno Il party Che avevano organizzato Questo cos'è E questo è un fennec Una volpe Del deserto E c'era addirittura Al party Al party c'era La volpe del deserto E lì sai La follia È a Los Angeles Qui addirittura Ho sfilato sul tappeto roso E quello cos'è Un condor Un condor Dicono bravo Io pensavo fosse Quando apre le ali È più grande Di questo divano Ah sì E quando apre l'ala Il condor è micidiale Ma l'apre qui L'ha aperta Adesso non so se nel video Si vede ma a un certo punto L'ha aperta Se mandi un po' avanti No è già fermo È finito E qui insomma Altre party di Los Angeles Come vedi qui La parte più del mare Grandi palme La natura Che ti assale E ti inebria Proprio la natura In California È qualcosa di Micidiale E vabbè Giallo Le macchine Cibo Eccetera eccetera Spiaggia Malibu Sai che si è avverato Il mio sogno Ah ma tu hai fatto Una canzone Io ho fatto una canzone Menandrei a Malibu A guardarmi quei surfisti Alti biondi Un po' buddisti E poi dopo Grazie alla musica Ci sono andata a Malibu Quindi bisogna sperare Bisogna crederci ragazze Ah ma sei brava Guarda qui Qui la ruota ragazzi Io sono venuta apposta Da te Red Per farti vedere Il video della ruota Penso un po' Ho una grande notizia Però la darò dopo A questo punto No la dai adesso Aspetta Fermiamo un attimo Allora dove devi andare La notizia solenne è questa Però devi andare A San Francisco San Francisco Perché mentre ero all'Usengere Sono andata a San Francisco Per incontrare Uno dei più grandi produttori Non italiani Diciamo del mondo Eccolo qua Chi è questo? Allora Red Ingrandisci perché adesso Quando farò il nome Lui è Corrado Rustici Ah Corrado Rustici Certo Che vive a Berkley Sì E c'è in corso Diciamo una produzione Di canzoni Della Giallo Prodotte da Corrado Rustici Della Giallo mi piace Perché ormai Ormai lei Ormai sono schizofrenica Ormai sono schizofrenica Capito? La Giallo No no Guarda io sto Very Humble Very Humble Perché io vengo dalla strada Red Dai Suburb Lo sai bene Una gavetta infinita la mia E qui sì Diciamo Quindi ho incontrato Corrado Rustici E adesso vedremo Ma perché hai fotografato Questi libri? Perché è interessante Che lì ci sono tutte cose Sulla rincarnazione Sai da California? Da chi? Corrado Rustici vive a Berkeley Sono tutte sulla rincarnazione Non era casa sua questa Questa è una libreria Anche se lui fa yoga in realtà E quindi c'erano tutti i libri Sulla rincarnazione Quello scoiattolino Ah no Io sono impazzita con gli scoiattoli Cioè la California mi ha regalato Gli scoiattoli Ci sono dei vidi in cui mi vengono Sulla mano Mangiano Qui era un giardino A San Francisco Giapponese E poi infatti ho incontrato Dopo l'Ori Questa Cosa è questo qui? Questo è un video pazzo Ciao 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 Sto preparando per andare in Giappone Ovviamente E vabbè l'autobus giallo E questo era un parco meraviglioso Con le sequoie millenarie Un'energia incredibile Sì ma tu hai voluto che io non vedessi Questa roba qui prima Per farmi la sorpresa Però io poi me la vedrò E poi dopo io Ti farò delle domande specifiche E monteremo delle cose specifiche Perché tanto quando torni Tanto dovrai tornare Cos'è questo video? Vediamo un altro video qui Ah questa no, io vado pazza per il bubble tea, ma ormai si trova anche a Bologna. Il bubble tea è un tè in cui all'interno ci sono delle palline di una cosa che si chiama la tapioca e quella è la pentola in cui buone la tapioca e sono queste, a Hong Kong per la prima volta l'avevo bevuto, è questo tè enorme con sul fondo queste palline di tapioca che sono bubbles, bollicine e tu le mastichi e è buono. Singapore, vado a Singapore, questa addirittura a Singapore, from the yellow bridge, dal ponte giallo si chiama così, questa è una bellissima donna, una a Singapore insomma al mio concerto e ha voluto farsi una foto, bellissima, questa è una roba insomma un piano bar, un po' triste forse. Basta, è bastato, vabbè qui sono un po' di foto, soundcheck del concerto. Famosa via di qua. Ma secondo me questa canzone è piaciuta molto a Singapore, perché è stile cinese questa canzone. Sai che pensavano avesse una parrucca, Red? Eh? Pensavano avesse una parrucca. Cioè? Cioè pensavo che questi capelli siano una parrucca, li dico ma come, lì un po' cinesi e invece ora hanno loro le parrucche, perché pensavano che fosse una parrucca la mia. Questa è la mia fan ecco preferita di Singapore. E questo è Singapore, è l'Avatar, il film di Avatar secondo me si è ispirato a Singapore, questo è il famoso, è meraviglioso, guarda una roba incredibile, costruzioni che qui ce le sogniamo, perché noi abbiamo la storia e loro hanno la tecnologia pazzesca. Beh, diciamo che dai, siamo stati veloci, rapidi, intanto Grazia non solo ha accordato... Questo è il manifesto tuo? Questo è il manifesto con... Adesso vai a Monte Carlo il 19 e il 22 apporto. Esatto, vuoi venire Red? Dove? Vi avevo una delle due tappe? Monte Carlo vuoi venire? Monte Carlo il 19 e il 19. Vai, vediamo se si può fare. A Monte Carlo ti ci portiamo, Red. Cos'è questa qui? No, questa era Mosca e, vabbè, Mosca e Chieve, c'è un piccolo video un po' montato, l'unico che si era riuscito a fare, ma... Poi comunque faremo uno spazio qui, perché prima devo vedere tutto, poi dopo c'è la domanda... Fai tu Red, io sto qua. Allora, nel frattempo noi abbiamo dato tempo, a Grazia di Michele, di accordare la chitarra, ma soprattutto di imparare il testo delle canzoni, perché è venuto a rubarmi... No, che imparare che non ho gli occhiali è scritto minuscolo, improvviso. Eh, però sei venuto a prendere il tuo cd perché non ti ricordi più... Eh, ma tu riesci a leggere qualche cosa con tutti gli occhiali, per cui... Bimba, bimba, vorrei dirti una cosa, non l'ho mica fatta io la grafica di quel cd lì, eh, hai scelta tu, eh? Cioè, non parliamo delle grafiche perché lei è una roba, è un disastro, fa i manifesti che sono una roba dove non ci scrivono neanche la città. Lei poi se ne accorge dopo e gli dico, ma mi manda dei manifesti, ma mi ha mandato il manifesto del... Poi ne parleremo dopo, dove non c'è scritto la via e basta. Ma dico, ma scusate, che città? A Roma, dico, non c'è scritto... Come non c'è scritto? Prima volta, me lo rimanda dopo, un altro che è fatto meglio, non c'è scritto Roma. Quindi... Devi controllare anche questo, perché adesso volevo leggere il testo, ma non si legge nulla. Io però qualcosa mi ricordo. No, sto parlando, sto parlando di questi, di questi spettano, non è questo, sto parlando di questo manifesto, eccolo qua, questo manifesto, vedi? Questo manifesto di una rassegna di cui lei è, direttrice artistica, dove c'è Morgan, Mimmo Cavallo, Clarmarale, Siria, Bungaro, Mariana Nava, Grazie Michele, Vertofortis, Casale, e dove ci sono anche queste artiste. Perché vedo Eleonora Betti con Mariana Nava, poi dopo vedo Claudio Migret con Siria. Ah, bello, e poi perché non conoscevi ancora quelle altre che abbiamo portato? E certo, quella in autunno. Next time, ok? E si chiama Tu per Tu e accadrà dove? Al Teatro Golden di Roma in via Taranto, dal 23 marzo si inizia con Morgan, 23-24. Va bene, va bene, va bene, di fatti ascoltiamo, questo è il manifestino di Morgan e questo è Morgan, eccolo qua. Ciao amici, vi volevo invitare il 23 e il 24 marzo al Teatro Golden di Roma per una serie, per una coppia di concerti del sottoscritto. Concerti molto intimi, concerti imprevedibili, concerti che probabilmente saranno delle serate assolutamente uniche. Io e il pianoforte, e voi? Ecco fatto, questo era Morgan. Questo era il primo invito, poi ci sono tutti gli altri che fanno dei video per invitare tutti quanti. Va bene, tu cosa fai? Faccio questo pezzo di caia, Velle al vento. Alio catene, i sentimenti, navi in mare calmo o pesci fuor d'acqua. Io da sempre credo ai cambiamenti, che ci fanno bene ad ogni età. La mia barca sa, che cerco una via, un buon timone, la libertà va piano. Ma intanto va, sciolta questa vela, no, non fa per me ogni corazza, ogni armatura. Terra nuova in vista, che dolce promessa, ma è dentro me la differenza. Un sogno non è una vita delusa, e il naufragarmi è dolce in questo mare. Ma una cosa certa, nel nostro destino, è che l'incoscienza è un'onda ormai devastante. Vincivela la consistenza di quell'onda e non svanirà l'orizzonte di luce. e speranza. Vincivela l'evanescenza di quell'onda e non svanirà l'orizzonte di luce e speranza. Vincivela la consistenza di quell'onda e non svanirà l'orizzonte di luce e speranza. grazie Michele e adesso? un'altra? sì visto che sei lì se sei scordata allora mandiamo Roberta Giallo al piano poi te la corri con calma cosa fai Roberta? adesso quando sono al piano decido quando il piano decido sì perché qui è una serata è una serata proprio happening questa allora adesso magari ci sta una cosa anzi no visto che è una serata di donne pensavo di cantare di luce propria che è una canzone appunto che parla di della rinascita in qualche modo dopo un momento di sofferenza di morte perché poi nella vita si muore e si rinasce tante volte e io ho scritto questa canzone arrabbiata con un uomo ovviamente nel senso perché poi è vero che con le donne a volte ci può essere l'antipatia, la rivalità però diciamo così una donna non è mai morta nel senso che non ha mai finto di morire vabbè poi di luce propria se tu non ti accorgerai di me saprò come farmi da parte se tu non ti accorgerai di me saprò rispettare le distanze e lontano da te io vivrò finalmente in pace in ombra del silenzio che taci riuscirò a brillare di luce di luce propria 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 Se tu non vorrai leggere in me Saprò come chiudere le pagine Se ti infastidirò la mia presenza Avrai intorno la mia assenza E lontano da te Io vivrò finalmente in pace In ombra nel silenzio che tace Riuscirò a brillare di luce Di luce propria Di luce propria Di luce propria Di luce propria Libera le farfalle che hai catturato Se vorrai che tornino a volare Libera le luciole che hai in mano Se vorrai che tornino a brillare Di luce propria Di luce propria Di luce propria Se tu non ti accorgerai di me Saprò come farmi da parte Se tu non ti accorgerai di me Io tornerò a brillare Io tornerò a brillare Francesca Fattila Vieni qui di fianco Roberta Che ti leggo alcuni messaggi Sono tanti Dando per lanciare C'è uno bello che dice Maria Luisa Biolcati Rinaldi Dice ma è una serata fantastica Non guardo la tv da anni La faccio solo bene La vita è altrove Bella luce Chilo di luce propria La Pixi E' magica la gialla Cristiano Pedrali Meravigliosa Roberta Roberta giallo Riluce di luce gialla Brava Roberta Che bellissima Melodia bellissima La giallo buca lo schermo Attrice subito Luca Berti La sera è fallentata la cantante Quindi Fra l'altro Vedi Io ti invito Poi ti leggerai tutti con me Sono un'era e metà Io ti invito Perché Lei può entrare Di diritto Nel club che stai facendo Di disco Comerate Nel senso buono Hai fatto tutto lui No Perdonami Roberta Mi racconti La storia Del tuo disco In breve Velocissimamente Allora Vabbè Sì sentivo prima La disavventura E tragi comico Anch'io mi sento Di quel club Sostanzialmente Io mi innamorai Perdutamente Di un francese Visto una volta Quando lavoravo In un negozio Per appunto Mantenermi Mi innamorai Lui cominciò a scrivermi Da Parigi E-mail per mesi Amore profondo Lascia il mio ex ragazzo Lascia il mio ex ragazzo Lei l'ha lasciato Perché ho conosciuto Questo ragazzo Tra l'altro Lo racconterò a bellare Nel mio spettacolo Il 15 marzo Debutto con proprio Questo spettacolo Prodotto da Lucio Dalla Perché anche lui Amava il tragi comico E quindi insomma E-mail per otto mesi Io pensavo di sposarmi Non l'avevo mai pensato Nella mia vita Ma per questo tizio Visto una volta sola L'avrei fatto Era bellissimo Guillaume Moro Occhi verdi Insomma bellissimo Io vado all'appuntamento Dopo otto mesi Nel frattempo Lui aveva perso Anche il padre Così per rendere Ancora più sofferente L'amore Era già orfano Di madre E vado a Firenze Dopo questi otto mesi Saremmo dovuti partire Per un viaggio Andare a Parigi Eccetera eccetera Lui quel giorno In stazione non arriva Io torno a casa Il giorno dopo Un suo amico Gay innamorato di lui Mi dice che Guillaume è morto Ma è morto veramente questo? Ecco hai fatto la domanda giusta Non era morto Era gay E voleva stare con lui E quindi a un certo punto Ho pensato che era meglio Che sparisse dai tuoi Pensieri Ma io ho aperto La posta del cuore E voi Se avete bisogno Ricorrete a me Perché io rispondo Tratto tutti gli argomenti Però lì ti avrei consigliato Da prima Perché sto Guillaume Conosciuto Dopo otto mesi Addirittura pensare Di fare un viaggio Insieme a uno Mai visto E mai conosciuto E che ci parti da Firenze Decidi pure di sposarlo E no Ti avrei sconsigliato Sono passati tanti anni Questa cosa è successa Diversi anni fa Fortunatamente Però quello che dico Poi la grande sofferenza Quell'esperienza Ha fatto sì Che io scrivessi delle canzoni Che queste canzoni Arrivassero a Lucio Dalla Perché Lucio Dalla Volesse produrre Il mio spettacolo Collegato a quel disco Che con cui sto facendo Il tour mondiale Hai capito Con cui debutterò Il 15 marzo A Bellaria Poi si chiude il cerchio Perché se no E quindi dalla sofferenza estrema Anche a me è successo Un fatto del genere Adesso Scherzo Sai perché le donne Quando cominciano A cianci schiaro Vi è capitato Pure a voi No E vedi che non sei Non sei la sola Comunque io ho lo sportello Aperto dalle 9 alle 11 di mattina Me lo segno Tu ti segni Ti vengo a trovare No tu mi puoi telefonare Se sei lontana Se no mi scrivi Io rispondo anche Non faccio carte Tarocchi Ste stupidaggini qua Non No perché sono anche serie Fatte bene Se fatte bene Però do dei consigli Guarda Becco La soluzione subito Ecco perché Sempre a telefono Guarda Guarda le migre Già Già Sì di Claudia Che cosa Canti Che cosa Canti Tatuami Red Tatuami Sì Lei dice che storia Trogicomica Uuuuh Ma una roba che Teatro Teatro puro Cioè non so Tra De Filippo Con colpi di scena Perché mentre ti sta raccontando Una cosa E tu dici Poveretta E stai con le mani Nei capelli Ne arriva una peggio Allora dici Ci sarà un peggio al peggio Ne arriva un'altra ancora Famiglie che si Si rompono Famiglie che Appaiono Improvvisamente No lasciamo stare Un po' di teatro In realtà Comunque Lei ce le ha C'ha delle situazioni Particolarissime Che però La rendono viva E tonica Perché deve reagire E questo la porta Anche a scrivere Vedi che scrive Ha una chiave Molto ironica Molto divertente Come quella di prima Poi ha delle chiavi Un po' più Appassionate Disperate Questa che è Appassionata E disperata È appassionatissima È appassionatissima Tatuami Capriare Capriare Vabbè ma anche Ecco ma una che dice A un uomo tatuami Adesso voglio dire Anche lei No? Lei ha fatto sta stupidaggine Se ne è resa conto Ma dalla stupidaggine È nata una cosa positiva Ma tu puoi dire A un uomo tatuami Beh che poi in realtà Anche io l'ho lasciato Il mio ex fidanzato Quindi No io in realtà Sentivo l'esigenza Questa è proprio Senti senti È una cosa viscerale Dovevo trovare un modo Per definire il sentimento E quindi dissi Secondo me la cosa più Più idolorosa È per sempre il tatuaggio Cioè io non posso Poi pensare Che qua tutti si fanno Dichiarazioni d'amore Sarà il mio amore per sempre Poi finisci E non ti senti più Perché è così che va E quindi ho immaginato Questo posto immaginario Nell'anima Dove tu poi scolpisci Questo sentimento Che dura per sempre A me va di pensarla così Cioè è metaforico No? No, metaforico Ovviamente Certo Il desiderio Che le cose dette Non vadano mai perdute Ma restino da qualche parte Perché poi Siamo quello che viviamo In realtà Quindi questa è l'altra Questa è mia sorella Quella seria Quella di prima era un'altra Mia sorella Vai Bello che dica di se stessa Mia sorella Certo Bello Bello che dica di se stessa Mia sorella Scusa Ma qui Cioè Qui Quali di voi Non sono un po' sdoppiate? No Di normali Non c'è nessuno Perché Non ti potrei dire In questo momento Tra il duo La birra Qua di fianco Che poi Che poi tu Dopo io E dopo Perché voi Voi vi siete conosciuti Tu non lo sai Io e lei Ci siamo conosciuti Sì vabbè Me lo lasciamo Voi vi siete conosciuti No no Come Voi vi siete conosciuti Io l'ho saputo dopo Si è conosciuti dove? Cos'è Sei venuta a cantare Nel mio programma Sei venuta a cantare Nel mio programma Con chi? Con mia sorella Con tua sorella Chi era tua sorella? Facciamo cantare prima Claudia Claudia Poi dopo parliamo Cioè Perché poi dopo Qui si parliamo Delle sorelle Tra lei Lei mi ha detto Noi stiamo andando Lì da Red Perché io le ho detto Vieni anche tu Ti devo dire una cosa Ma dico Ma che mi devi dire? No perché Noi Dico Ma che ci avete avuto Una storia? Noi che? Ci avete avuto una storia? Fa peggio E che è peggio di una storia? Che poi E che ne so Io dico peggio di una No vabbè Niente di così Però no Siccome Facciamo Io voglio sentire Questa canzone No però Io sono curiosa No sono curiosi Di sentire Tu sei venuta Con tua sorella Dove? No vabbè Sono curiosa Qui parliamo di sorelle Lei C'è la sorella Con cui mi prende La stupide La sorella Con cui Che hanno La sorella Ha 49 cani 27 gatti Io Sì Vabbè Lei c'ha una sorella Che è venuta Bravissima Come si chiama? Bianca Sì l'hai conosciuta Red Avevamo un nome Un duo Che aveva un nome Ci chiamavamo Naughty Girls Abbey Road Naughty Girls Però non te lo puoi ricordare Non te lo puoi ricordare Con una storia Di Paul McCartney Sì esatto Avevate rubato Il diario Di Paul McCartney Esatto Bravo Ha rubato Il diario Di Paul McCartney Sì è mia sorella C'aveva 13 anni Ha scavalcato Il muro Nella villa E è entrata Dentro la casa E sì perché era una In mente Queste pazze qui Poi dopo hanno incontrato Paul McCartney Gli hanno dato Cioè Sì poi gliel'abbiamo restituito Ho vinto io Il premio della pazzia Stasera Dai Scusa dove Dove l'hai Scusa Aspetta prendi il microfono Adesso mi sono ricordato No no ma io non mi ricordo Dov'è il microfono? Perché non è che stava a fare Dove c'è Vedi qui Qui tieni Eccoci qua Allora Racconta la storia No Racconta la storia Allora Tu quanti anni avevi? 13 Come 13? Ed eri a Londra? Sì Stavo in vacanza Con la mia famiglia Sì Nel 1980 Sì Ok E quindi Stavo con mia sorella Che eravamo Due Beatles maniache Di quelle Di seconda generazione Comunque avvelenate Sì E niente Un bel giorno Abbiamo deciso di scappare Dall'albergo Dove stavamo in vacanza Con i nostri genitori Che ci avevano portato Apposto a Londra Per questo motivo Perché il nostro padre Aveva visto Che c'havamo questa forte passione Ci voleva accontentare Insomma E quindi Però Chiaramente Non è che ci portava Poi No Allora noi volevamo andare Per forza Ai Beatles Studios A vedere le famose strisce No Allora dicono No basta Adesso Abbiamo tornato a Roma Invece noi Abbiamo approfittato Di un momento Che loro Erano andati a fare shopping Eccetera Mi ha detto A mia sorella Le ho detto Senti Adesso mai più 13 14 anni Abbiamo preso Abbiamo preso un taxi Ci sono fatta accompagnare Fuori A Abbey Road E poi mia sorella Si ricordava Che c'era anche La casa di Paul Là A St. John's Wood No Per cui Abbiamo detto Al tassista Di portarci là E abbiamo visto Sul muro C'erano tutte scritte Abbiamo queste Lì Quindi Siamo Siamo scese E niente Poi noi eravamo Su Antone 2 C'erano altre due cuginette Più piccole di noi Le cugine hanno fatto Come si chiama La sedia Sono salite Sopra le cugine Ci siamo fatte la scaletta E hanno scavalcato Il muro della casa De Paul McCartney Abbiamo scavalcato E siamo entrati dentro E c'è la casa È una casa grande A 3-4 piacere Però Era disabitata In quel momento No 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 Ci abbiamo neanche Pensato Ci abbiamo visto Che non c'erano Comunque Perché si vedeva da fuori Che è la casa Però Non è che abbiamo avuto paura E dice Vabbè abbiamo suonato Il campanello Non ci apriva nessuno Dice Qui non ci sta Siamo entrate E poi era tutto chiuso Poi abbiamo guardato Comunque la casa In quel momento In quel momento Non era abitata E quindi siamo sgattaiolate Nel retro della casa C'è un giardino enorme E in fondo Questo giardino C'era questa struttura Pazzesca Esagonale Tipo un gazebo Che era il famoso Geodome Poi ci siamo ricordate Dei Beatles Dove ci si facevano Anche le foto E video Se coperti i dischi Eccetera E quindi noi siamo riusciti Ad entrare Perché era aperto Era aperto Niente di male Era come uno sgabuzzino Era così E siamo entrate dentro Perché dico Dio Mia sorella Ha fatto questo Il geodome La pallela Chiamava la pagoda Siamo entrate dentro E praticamente C'era questo divanetto Rosa Rotondo Quello famoso Insomma C'erano altre cose Oggetti Sparsi Scatole C'era di tutto Però noi Capito Stavamo Fuori Io poi ho scritto Dei racconti Su questa storia E quindi A un certo punto È caduto l'occhio Dice Guardiamo un attimo Una cosa così Un ricordino Un ricordino al volo Abbiamo Abbiamo visto Nentre una di queste scatole C'è preso Un'agenda rossa Ho fatto Fammi vedere Che è sta cosa E apro così Una pagina a caso 10 aprile Paul lascia i Beatles C'era scritto proprio così Al che Io ho fatto Oddio Questo forse Ma vediamo un po' C'è McCartney Vabbè Questa ce la possiamo leggere Con calma Tanto 1980 Questa è del 1970 Non gli serve più Questa ce la possiamo Porendere Ce la siamo presa Ce la siamo scappate E poi ce l'abbiamo tenuta Per vent'anni Ma senza che poi Non è che noi parlavamo bene L'inglese a quei tempi Per cui C'è C'è voluto tempo Di decifrare Tutte le frasi Le cose un po' Particolari Disegni Psichedelici Le cose che capivamo meglio Erano gli appunti di Linda Per la spesa Ste cose qua Poi insomma C'erano anche scritte Delle cose Tipo la Oggi Registrazione L'ETB C'erano scritte Anche delle note Sulle L'alite Dei Beatles Perché comunque 1970 era l'anno Dello sceglimento Per cui era Noi non ci eravamo resi conto Che avevamo in mano Un pezzo Esatto Però questa cosa L'abbiamo capita Quando poi era troppo Cioè vabbè L'abbiamo poi capito Però in realtà Non volevamo disfarcene Anche perché poi Nessuno aveva il coraggio Di dire Come l'avete avuto E ci abbiamo trovato così E quindi E quindi Alla fine qualcuno Ci ha convinto Di fare questa cosa Di restituirla a Paul Ma E come fai a contattare Paul? Infatti E come fai a contattare Paul? Non lo so È successo qualcosa di mistico E comunque Siamo riuscite ad arrivare A delle persone Che stavano in stretto contatto Con lui Della sicurezza E hanno saputo Che Io ho mostrato Delle foto Di questo documento Non hanno visto Che era suo Si sono Diciamo Accertate Che fosse suo E quindi E io ho detto Vabbè Però noi Gli ho proprio Ressiturire di persona Perché c'era anche Questo problema Dice Magari Grazie Arrivederci No E quindi Ok Vediamo quello che possiamo fare Quindi ci hanno fatto Venire Andare all'albergo Ci hanno fatto Accomodare In una suite Ci hanno tenuto Inchiuso Ma dove? In cui arriva La cina In Italia E questo a Roma Quando Paul È venuto a suonare Colosseo Esatto Quindi questi ci hanno chiuso Dice No succede Questi ci chiamano L'FBA Qualcosa Invece No È venuto Paul E invece Dopo due ore È venuto Paul Io non ce li speravo Più sinceramente Perché È stata proprio Una visione Così come se venisse Un Marzia Anche se poi Comunque questa cosa Era successa Noi avevamo preso Questo diario Che eravamo Delle ragazzine E gliel'abbiamo restituito Quando eravamo Già grandi Per cui c'era Uno spazio temporale Che ci ha un po' Confuso Le idee Cioè A un certo punto È come se fossimo Tutte e due Tornate indietro Di vent'anni Ci siamo risentite E che ha detto Paul Paul quando Quando ci ha visto Ci ha fatto Ah Nodigerts Siete voi due Era sorpreso Nodigerts Vuol dire Ragazzi Birichini Un po' cattivelle Sì Infatti Era rimasto sorpreso Anche lui Di questa cosa Comunque Perché Era Sapeva comunque Che i fans Negli anni settanta Entravano a casa sua Ogni tanto Qualcuno a dormire Qualcuno Cioè Era al corrente Però sinceramente Forse questo diario Non pensava più Che potesse tornare Nei sue mani Poi Prima di un momento In cui lui Stava insieme Alla Heather Mills Che era molto Possessiva A gelosa Aveva un rapporto Strono E poi si è visto Come andata a finire La storia Tra lei E lui e lei Quindi In quel momento Che lui Tra l'altro Lei stava incinta Della figlia Dell'ultima figlia Di McCartney Eccetera E tornare in mano Questo diario Che era pieno Di queste note Della sua ex moglie Che era una sposata Da poco Di Linda Che è stato Il grande amore Della sua vita Per lui è stato Come un segnale Quasi mistico Ricevere questa cosa Questo diario Che era Su e di Linda È una tua impressione O te l'ha detto? No Questa è stata Una mia impressione Ma anche di alcuni giornalisti Con cui ho parlato Dopo questi episodi Molti hanno pensato Tant'è che poi Dopo lo mi sono lasciato Ti ha ringraziato E poi è andato via Cioè Ringraziato Certo Ti ha fatto un autografo No Sì sì C'ha anche fatto degli autografi Però sai Quando mi seduisci Un diario Che è pieno Di cose Ma Red Ma sinceramente Pensi che questo Ci possa nuocere? Assolutamente no La birra La birra No Anzi Le storie Le storie sono belle Queste vanno raccontate Capito? Cioè non è che questa cosa E quindi dopo? Eh dopo Niente Siamo rimasti così Abbiamo avuto uno scambio Molto amichevole In realtà No vabbè È finita così Più o meno Diciamo Più o meno Cosa vuol dire Più o meno? È finita È finita là la storia Insomma Poi non è che ci sono stati più altri episodi Ma adesso mi ricordo E voi mi contattaste E mi raccontaste questa storia E io l'ho invitato dove? Alla Roxie Bada L'ho invitato io Sì perché noi dopo Abbiamo fatto il duo Noti Girls No? Io e mia sorella Abbiamo fatto Diciamo un progetto Un album Siamo andate addirittura A registrare A Bureau of the Boys No? Perché Un pezzo Che si intitolava Sir Paul E un altro Che si chiama Dario Rosario Però tutto un progetto Un po' anche Teatrale O comunque Aveva Era diventato un film Alla fine Questa cosa Che poi non siamo riusciti Ancora a realizzare Io dico ancora Perché in fondo Ancora ci spero Perché ci abbiamo lavorato Tanto a fare qualcosa Un documentario Una cosa Un po' per raccontare La storia In modo anche storico E vabbè Ma tu l'hai fotografata Il diario? Eh sì Hai tutte le foto Di tutte le pagine? Spero Tutte? Sì Sì Più o meno sì Sì Vabbè No Domani arriva Paul Che manda L'avvocato E dice no No perché L'andriano l'ha prescritto Per quello L'ha prescritto ormai Tutto questo parte Dall'amore Di una ragazza Che dice Tatuami Al suo uomo Che poi dopo lascia Perché dopo l'ha lasciato Quindi Che poi Avviene Claudio Megret Tatuami Ma se Tu non tornassi più Adesso Adesso Io vorrei Un fermo immagine Una fotografia Da portarmi negli occhi Ma se Il tempo la va via E tutto E tutto Ed in silenzio Tato Il tuo sorriso Sulle labbra Ma sulle labbra O mia Non ti Non ti Fermare Incidi Sul mio Petto Le iniziali Di questo Amore Rotto E poi Mettici Due ali Così Potrà volare Anche se Mi resta Tosso In altre Dimensioni Fai tu Colora Dove vai Mi piace E quando vai Lungo la schiena Disegna i priviti E l'infinito E tatuami Le gambe Le ginocchia Che uso Per raggiungerti E per fare L'amore Ed in silenzio Tato Al tuo Respiro Sopra Al mio Respiro Su di Te Sai Volevo Dirti Che con te Io cammino Volando A tre metri Dal suolo E che Non vivo Senza Te Ti marchio A fuoco Fuori E dentro E tatuami Le mani E poi Le braccia Che uso Per toccarti Per sentirti Ed abbracciarti Ed in silenzio Tato Al tuo Sorriso Sulle labbra Ma sulle labbra Mia Non ti fermare Incidi Sul mio Petto Le iniziali Di questo Amore Rotto E poi Mettici Due ali Così potrà volare Anche Anche se Mi resta Addosso In altre Dimensioni Tutto di te Tatuami Tutto di te Tutto di te Tatuami Tutto di te Tutto di te Bellissima Bellissima Questa serata Girl Power Claudia Megret Bellissima Allora Megret Una voce Tanta personalità Ecco Ci abbiamo Anche il peggior Commento Che si è stato fatto Malgioglio Cantava Pelami Che è un po' La stessa cosa Hai capito tutto Mi era venuta Una gran paura Meraviglioso Tatuami Eccetera Claudia E l'orgoglio Di Napoli Giovanni Verdoliva Bella ragazza Bella voce Allora ragazze Adesso c'è un attimo Di pausa In cui io Vi regalo Il miele Il miele Mielizia Senti Olli Cosa c'è Amore Vieni qua Cosa c'è Olli No no Perché hanno Spostato le luci Hanno spostato le luci E quindi lui La cagnolina Crede che le luci Siano insettiche Anch'io la caramella Queste sono le caramelle Ottime Poi se volete Olio essenziale Di eucalipto Meraviglio Guarda Questo è olio essenziale Di eucalipto Da che chiedo A mio figlio Emanuele Preferisci Il miele Oppure Senti Buono 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 E certo L'olio di eucalipto Per difesa della gola Vedi Questo è l'olio di eucalipto Poi abbiamo il miele Amore No Ebbene Certo Lei quando No la caramella No Anche se Guarda 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 Quale cose c'è qua Barretta Barretta Energy bio Barretta Mielizia Questo Buone Ma scusami Questo è uno per tutti Perché io mi comincio a prendere Cosa mie No tu cominci a prenderti Poi c'è Ci vuole del miele Miele Questo è miele di tutti i colori Mielizia Poi abbiamo Abbiamo perso un canna Miele italiano di sulla Ah dai se Miele Composta di mirtilli Ah questo è Chi vuole acacia e cacao Mazza che bello Caccia e cacao Sì è caccia e cacao Vedi Poi vedi Poi vedi Poi vedi Poi vedi Poi vedi Poi vedi Caccia e cacao Ma fra l'altro Il miele È un'eccellenza Il miele Ma è una cosa importante Quello che stanno facendo Gli apicoltori Perché sono la difesa Della terra Guarda Stanno votando Ma questa è Tutte cose A base di miele Fantastico Io assaggerei La bardetta Tu che Apriamone una E la mangiamo in due Allora io Apro questa La bardetta Sono buonissime Anche perché stavo mangiando Mi avete fatto Niente di questo Questo vedi Miele Miele Fiori Quello è per la Prova ancora Prova spruzze No no È una cosa fantastica Senti Perché Pensavo La ragazza ha preso Poche cose Sì Barsamico Allora C'è una notizia Importante Tutti Ormai Lo dico sempre Che il miele Le api Fanno qualcosa Di strepitoso Perché salvano il mondo Guarda Guarda la cagnolina Piccola E gli apicoltori Sono incredibili Una notizia importante È stata data Dal telegiornale Sentite Questa notizia Più di 400 Agricoltori Sono finiti Sotto inchiesta In provincia di Udine Per la morte Di api Causata da Un insetticida L'accusa è Inquinamento ambientale Come ci racconta Francesco Rossi Ecco Inquinamento ambientale Quindi agricoltori In provincia di Udine Fra l'altro Io credo che il Trentino Alto Adige Forse aria pulita Eccetera Mi hanno detto Che è pessima Perché usano un sacco Di pesticidi Non danni La barretta E le piace la barretta Ma a lei Gli piace tutto Sì vabbè Questa non gli fa Ho lì Ciao piccolina Allora Adesso Io ho visto Che è una serata Di Anna e Carlo Ganapini Padre e figlia Perché Quella dell'apicoltore È una missione Quindi ci vediamo Queste interviste Mi piacciono moltissimo Queste interviste Con gli apicoltori Di Mielizia E di Conapi Poi torneremo Nel frattempo Accordiamo le chitarre E faremo tutta una scarica Musicale Fino alla fine Ecco qui Mielizia Grazie Mielizia Di dove siete voi? Reggio Emilia Reggio Emilia Reggio Emilia Senti ma questa qui È tua figlia Sì Ma che soddisfazione C'è quando una figlia Porta avanti La missione del papà E come C'è la soddisfazione Per il nonno Quando il genero Porta avanti L'azienda E ho passato A mia figlia Ah Ma tu sei stato Un capostipite Del biologico Sì Sono stato il primo Uno dei primi A fare il biologico A Reggio Emilia E perché? Perché Così Mi tirava Di fare il biologico Perché È una cosa seria Insomma E oggi Oggi Invece Gli agricoltori Pensano Soprattutto ai pesticidi Loro Eh Ma io Penso anche Che deve voler bene Alle api Per me Le api È tutto Insomma Il mio suocero Lui Diceva sempre Che se non Avessero tutte le api Sarebbe morto All'età di 60 anni È morto 94 anni e mezzo Quindi le api Allungano la vita Non solo mangiando miele E allora io Mi sono dimessa Dal mio posto di lavoro A tempo indeterminato Per cominciare questa avventura La matta Per cambiare vita Una matta Una scelta splendida Di cui sono molto orgogliosa Sì Sì E Raccolgo una grande eredità Di valore Di lavoro Dal nonno E anche da mio padre Non è facile Lavorare in famiglia Ma mio papà Mi ha insegnato Le basi Per La mia situazione Di oggi Ma perché Dici che Ma perché Questa è una missione Sembra quasi che Tu dici Molti figli Non gliene frega niente Di quello che hanno fatto I genitori Se avevano delle Concessioni automobili Eccetera Invece I figli degli apicoltori Sembra quasi Che debbano portare avanti Perché Per me ha fatto la differenza Anche La cooperativa Perché sapevo Che mio padre Faceva parte Di un gruppo Strutturato Una comunità Che porta avanti Anche dei lavori Non è solo Una questione Di lavoro E di profitto E ho sempre Vissuto in famiglia Il legame Con l'insetto La bellezza Del lavorare In campagna La vicinanza Con la natura Era già mia Quella Ho solo Ho cominciato Ad applicarmi Ma perché Tu Allora Perché tu hai iniziato Ad allevare api Io ho cominciato A allevare api Con mio suocero Perché lui Era Un dirigente Cooperativo Della Sommacelazione Della gemiglia Lui aveva Una ventina Di alveari E Sono andato con lui Le prime volte Del 75 E mi è piaciuto subito Dovere arrivare Sempre Andare avanti E vedere sempre Di avanzare Dove potevo arrivare Andando api Il mondo delle api È stranissimo Tanto è un mondo Tutto femminile Quindi Guarda come sorride Perché non proprio Beh i fuchi Non contano molto Dopo aver Fatto il loro lavoro Sto pensando Agli apicoltori Infatti Ah no Io sto pensando Alle api Il mondo delle api Non degli apicoltori Il mondo delle api È tutto femminile Una società Praticamente perfetta Sì Sicuramente È una società Perfetta Con un suo Equilibrio Nel quale noi Possiamo fare Davvero poco Dobbiamo solo stare Ad ascoltare E guardare Sicuramente Che siano maschi e femmine A noi non interessa Tanto Quando lavoriamo Con loro Sì Ma loro hanno Proprio La missione È quella di salvaguardare L'alveare Produrre miele Salvaguardare la peregina Hanno delle regole Ben precise Ben ferre Sì Loro si procacciano Il cibo E il nettare Lo trasformano in miele Questo è il loro nutrimento E poi hanno questa meravigliosa missione Dell'impollinazione Madre natura Se così la vogliamo chiamare Le ha istruite Per portare la vita Di fiori in fiore E noi le aiutiamo in questo Beh il vostro ruolo è importantissimo Qual è il miele che preferisci? La melata La melata? Intanto si produce sulle colline di Reggio Emilia È un ottimo miele Molto particolare Anche poco conosciuto Che ha delle ottime proprietà organolettiche Ma viene dalla foglia Non da un fiore Sì esatto Subisce una doppia lavorazione dell'insetto E tu qual è il miele che preferisci? Il miele che preferisco un po' tutti Il castagno Il castagno Il castagno Ma io adesso ultimamente Mi sono passato tantissimo a levare Regine A levare? Regine Faccio l'allevamento di Regine per lei Per passare a lei Ah quindi tu allevi Soprattutto a Regine Come si fa ad allevare Regine? Perché c'è una Regina ogni alveare Sì E c'è tutta la procedura da fare Che è difficile da spiegare così Bisogna vederla fare Allora dopo uno capisce Tu allevi Regine e poi le dai a lei E tu con la Regine fai un nuovo alveare Sì Ogni Regina Quanti alveari hai? Adesso ne abbiamo circa 450 Sì C'è molto lavoro C'è molto lavoro? Sì Però cresceranno no? A me piacerebbe ampliare L'azienda ulteriormente Però a piccoli passi Quindi tu hai circa 25-30 milioni di api? Sì più o meno Eh non è male no? No Complimenti grazie 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 Ciao 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 bella bimba Tu mi dici che siete gli ultimi Che vogliono bene la natura? Sì Gli apicoltori sono gli ultimi Che vogliono bene la natura Perché non usano Noi biologiche Non usiamo né diserbanti Né prodotti chimici Sulle prodotti naturali E se sparissero le api sarebbe un bel casino A me dispiacerebbe molto Ma anche a tutta la gente Anche a quelli Anche a tutta Anche a tutta la gente Dispiacerebbe Se sparissero le api Grazie a Mielizia Grazie agli apicoltori La passione che hanno E adesso Mentre le ragazze sono andate là Perché non avevano ancora mangiato Stanno mangiando Olli Buona Quando cambia le luci Allora Allora c'è Eleonora Che però Eleonora Betti Che fa un brano Che non è da questo disco Perché Eleonora? Che brano è? Il brano si intitola Libera È uscito nella compilation Di Amnesty International Voci per la libertà E sono stata parte Di questo bellissimo progetto Nel 2018 E poi nella realizzazione E la produzione del brano È arrivata questa bellissima collaborazione Di Ferruccio Spinetti Che ha suonato il basso E insomma È diventata ecco Veramente una storia bella Dello scorso anno Insieme a quella del disco Ecco che Poi il brano è inserito Nella compilation Di Amnesty International E anche disponibile Su tutte le piattaforme digitali Anche Spotify iTunes Tutte quante Ecco Nel frattempo Stiamo parlando Scusa Vieni Vieni dietro Guarda Senti che casino Scusate Ma cos'è il casino Che fate? Succesa una cosa Cos'è? Una cosa gravissima Perché abbiamo tradotto Lì con uno spaghetto Di soglie in bocca Ci siamo spaventate Togli a prendere lo spaghetto Di soglie Da sola Tutto da sola Giuro Tutto Cosa dove mangiava? Ha andato a mangiare Là ha andato Gli spaghetti che gli scivolava E quindi No e quindi volevo avvisare Le ragazze che possono Mangiarli tranquillamente Perché Le ha appena sfiorati Proprio Vi ha mangiato Gli spaghetti Fate facendo un Cioè È bello perché Tutto questo Mentre Eleonora Sta raccontando seriamente Una canzone Si chiama Libera Che è inserita Nell'album Amnesty International Quindi Cioè Siamo in diretta Eh? No no State pur qui Cioè Venite però Dovete cominciare a venire Perché fra un po' Tocca a voi Tu cosa stai mangiando Delle verdure Delle verdure Cinesi No è che è successa Una cosa incredibile Gliela puoi dire? No stavamo ipotizzando No no Questa offerta Che è arrivata a te A me è arrivata No pensavo A me ragazzi Che offerta No pensavo Sì Che secondo me Secondo me Il Duola a birra Dovrebbe andare A Pechino Espress Perché sono Una coppia di bionde Le vedo molto determinate Potrebbero insomma Darci grandi emozioni In giro per Per il Per il Hai anche Hai anche Suggerito il primo singolo Sì allora Pensavo Il primo singolo Allora io Grazie Stasera Questo Duola a birra Mi ha molto ispirato Allora Innanzitutto Direi Che il primo singolo Potrebbe essere Agli uomini piacciono le bionde Birre E poi potrebbero invitare Una serie di cantautrici In base al colore dei capelli Definire la birra Come a voi rossa La doppio malto Pensavamo con Roberta La scura Giusto? Ecco anche Roberta Giallo Era d'accordo con questa idea Quindi noi stiamo Cominciando a lavorare Sul tour Ti ringrazio per tutte le idee Che ci darete Noi il repertorio Lo stiamo mettendo su Poi ti racconto di lei Che voleva andare via Da casa mia Ficcando la sua chitarra Nel mio Porta chitarre E non c'entrava Ed è stata per 20 minuti A dire Strano Ma è stato magico Come sono riuscita A metterla Prima di venire Allora io vado un attimo A posare il miele Sì tu vai Però il miele Tra l'altro C'è Eleonora al piano Che magia queste api Questi filmati sono meravigliosi Stanislao Esatto Il miele Il girasolo Assaggiato Buonissimo Allora In tutto questo Eleonora Sta per cantare Una canzone Si chiama Libera Che è inserita Nella compilation Di Amnesty International Eleonora Betti Non è nel divieto Di sbagliare Ma è nella compilation Di Amnesty Mi chiamo Libera E' un nome che mi piace Lo grido forte E a volte sai che mi si dice Che essendo Libera Niente è come mi pare Devo essere esempio Di rigore Mi chiamo Libera E adoro camminare Ma quando vado Dove voglio Mi si dice Che essendo Libera Non posso esplorare Nessun posto Qui ferma Devo stare Libera la mente Dalle inutili commedie Fatte per dimenticare Restando immobili A guardare Libera è la mente Di chi non si sente uguale Al modello imposto Da chi vuole un mondo Da controllare Mi chiamo Libera Con certificazione Data alla nascita Come diritto basilare Su Libera per sempre Non ti preoccupare Perché esprimo Un diritto basilare Mi chiamo Libera Me lo diceva sempre Di stare attenta A scriverlo correttamente Soll'attene importanti Pericolosamente Svelano Che è una bugia L'essere niente Libera è la mente Libera è la mente Dalle inutili commedie Fatte per dimenticare Restando immobili A guardare Libera è la mente Di chi non si sente uguale Al modello imposto Da chi vuole un mondo Da controllare Da controllare A contare A contare A contare Qual è il mio numero Questo mi rimane A contare A contare Qual è il mio numero In questo mare Libera è la mente Dalle inutili commedie Fatte per dimenticare Restando immobili A guardare Libera è la mente Di chi non si sente uguale Al modello imposto Da chi vuole un mondo Da controllare Da controllare Da controllare Libera è la mente Di chi non si sente uguale Al modello imposto Da chi vuole un mondo Da controllare A contare A contare Qual è il mio numero Questo mi rimane A contare A contare Qual è il mio numero In questo mare Sì ma Eleonora Betti Eleonora Betti Dice Potete ripetersi Il nome del disco Di Amnesty International Dove si trova Libera Come si chiama Voci per la libertà E poi se la cercate Insomma con il mio nome Come singolo online Eleonora Betti Sì Nel basso C'è Spinetti Che è il bassista Anche degli Avion Travel E di Musica Nuda Che è il duo Che ha con Con Petra Magoni Un'altra che ci starebbe bene qui Petra è meravigliosa Anche quella scocomerata Dei livelli E scocomerata anche lei Penso sì Esatto Quindi Ascolta Chico Lanzaretti Scrive Ascoltare questa ragazza Mi dà grande fiducia Per il futuro Della nostra musica nazionale Per me Può diventare Un'artista fortissima Lo è già Lo è già E adesso Adesso Grazia Dove hai messo il tuo microfono Sono qui Ecco Questo è mio Ok Rosso è mio Cioè Rosso Questo è il tuo Ecco Allora Adesso c'è Ilaria Sì Ilaria Argiolas Ilaria Argiolas Che è un'altra appassionata Prima abbiamo detto Arrabbiata Non so che canzone Ci vuole cantare adesso E ancora fai Ecco il microfono Dimmi Eccomi Tu sai che io Me la canto E me la sono E mi piace scrivere il romano Cantare il romano E quindi Voglio Farvi ascoltare Una canzone Che Un po' Racconta di me E Che forse Un po' Ha anche cambiato Me Facendomi aprire Proprio Cioè E' un pochino ironica Parla di me E non ha bisogno Di molte spiegazioni Perché è abbastanza Esplicita Come si chiama Si intitola Io e il cuore Ce l'ho a destra Perché io sono un po' Strana Capito Sono un po' Strana Si e il cuore Non ce l'ho a sinistra Sta a destra Ma ce l'hai seriamente a destra Metaforicamente Sì Metaforicamente Ma secondo te Può essere una Scusa No Scusate Non avete capito Pensavo fosse una cosa politica No No Non è politica No No Però l'ho detto talmente Credibile Cosa c'è scritto qui C'è scritto Just love Ma che son cretina Ho fatto anche l'esame Di anatomia visiologica Ho preso anche 30 Tutta roba tribale So cretina Allora si chiama Io il coro ce l'ho a destra Allora Ilaria Argiolas Io il coro ce l'ho a destra Metaforicamente Non politicamente Ok So strano Lasciate Mestà Sono orso E non voglio i cani I gatti perdono i peli E il mio lo chiamano sfizio Non fumo ci ho provato Mamma annoio Non bevo ci ho pensato E mi strozzo Nienta curi per Natale Tanto se vedemo Quando ti vai Non me toccar cellulare Perché me fai rosicare Se sei gelosa Con me non ce puoi stare Pure il cuore E' partita Pure il cuore E' partita La testa Infatti sta a destra Ma mi segno Pure in palestra Ma vado Tutti e fretta Pure a me Il cuore ce l'ho a destra Chiamate l'orchestra Chiamatemi maestra Se c'hai callo Inizia da spogliar Accendi L'aria condizionata Quanto so Simpatica Quando me lascio annar Il problema è che poi M'hanno spostato il cuore M'hanno spostato il cuore Se no non si spiega M'hanno chiamato M'hanno spostato il l'aria Out e butti dalla finestra E butti dalla finestra Ora me Il cuore ce l'ho a destra Chiamatemi maestra Io voglio la maestra Pure la chitarra sta a destra M'hanno spostato il cuore M'hanno spostato il cuore ce l'ho a destra Si conclude Amo la tuta Il carcio E le bionde Adesso Qualcuno Mi confonde Ora ve lascio L'amarezza Di chi pensa Che è solo Dorcezza Io Non so Superstiziosa Ma Mi gratto Quando Vedo Il gatto Nero Non Lo Cantavo Da piccola Vedevo Canciro E mamma Ha preso L'aereo Io Ho perso Il tren Ora il cuore E' partita E' partita La destra Infatti sta a destra No M'è genio Mure In palestra Ma vado De fretta Ora Ora il cuore E' partita La destra Infatti sta a destra O te mani Sta a minestra O te butti Dalla finestra Mamma mia Mamma mia Il cuore C'è la destra Chiamate L'orchestra Io voglio La maestra No ma dice brava Hanno scritto Bravissima Ilaria Perché Anche col Casino che è successo Che dovete capire Che cosa è successo Perché Dice Non si è persa d'animo Ma Ilaria Si perde d'animo E quando mai Si perde d'animo Capirai Ma guarda Ha una tempra Ha un carattere Questa ragazza Si E' dolcissima Perché Secondo me Ha una sensibilità E una dolcezza Che si intravede Nello sguardo Però invece Quando canta E quando suona Ci mette una grande grinta Sacco di complimenti Ilaria Ilaria Argiolas Sistemate le chitarre Perché vorrei Che voi faceste insieme Quel pezzo Che avete provato Prima per caso Quello là Because the night Non è male Il Because the night Di Patti Smith Ma certo Usa 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 Ma fa piacere anche a me E anche alla chitarra Quella Allora la mettiamo via Adesso vediamo La tua chitarra Cos'è È arrivata Forse c'è la batteria scarica Mi scrivono Provala Provala adesso Però Provala Perché non vorrei Un'interruzione Accendigli la chitarra Filo Ok No Sta preparando Stai preparando Dammi 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 Allora Questa canzone È una canzone Che ha lanciato Patti Smith Ma in realtà L'ha scritta Bruce Springsteen È una bellissima canzone Si chiama Because the night E fra l'altro Volevo dire questo Guardate Una cosa Perché Stanno ripubblicando Tantissimi vinili Ve ne faccio vedere alcuni Aspetta che Vi faccio vedere Un po' Di vinili Che Fra l'altro Stanno ripubblicando I vinili Di patty smith Vi faccio vedere Questo è il re di etiopia Che è appena stato Ripubblicato In vinile Bellissimo Easter Di patty smith Ce li ho tutti e due Questi Sono due vinili Bellissimi Poi ci sono anche Degli altri Prince Stanno ripubblicando Questo Prince Che bellezza E poi c'è un disco Di Prince Che ne hanno fatto Con una copertina Che è strepitosa Guardate Questa copertina Se la metto dritta Guarda Girando Vedi Vedi che cambia Cambia il disegno Cioè sono come È come il formaggino mio Esatto Come qui Quelle cose Quelle Come il formaggino mio Che aveva le figurine Esatto Le figurine che cambia Cambiano Girando Cambiano Questa è una copertina Meravigliosa Questo disco Però c'è anche Questo disco Di patty smith Dove non c'è La canzone Because the night Perché era un singolo Però in questo Credo ci sia Ask the angel Eccetera No è qui Qui c'è So you want to be a rock Non star Che era una canzone Dei birds Allora Because the night Siete pronti? Cosa? È la batteria Della chitarra È la batteria Della chitarra Che si è scaricata? Sì Succede Allora Ilaria Argiolas Francesca De Fazzi Insieme Una notica Ancora no Ancora no Allora Dicevi che è una Ci siamo Because the night Ilaria Argiolas Francesca De Fazzi Ancora no Come on now, try and understand The way I feel when I'm in your hand Take my hand, have the Sunday cover The care of you now, care of you now, care of you now Because tonight belong to lover Because tonight belong to last Because tonight belong to lover Because tonight belong to last Ever done when I'm alone Love is a ring on the telephone Love is a ninja, sky's at last Ever opened here, the money card Come on now, try and understand The way I feel when I'm in your hand Take my hand, have the Sunday cover The care of you now, care of you now, care of you now Because tonight belong to lover Because tonight belong to last Because tonight belong to lover Because tonight belong to lover Come on now, care of you now, care of you now Questo era nell'attesa della serata, no? Suonavano chi da una parte, chi dall'altra Loro erano in corridoio e suonavano insieme Allora, bellissimo Allora, tu vai e prendi la chitarra dell'Argonas Prendi la chitarra dell'Argonas Perché fate la canzone del Perisoma Quello che avete inserito La vostra canzone è quella che ha scritto Francesca De Fazzi Ilaria, mi stanno scrivendo Aspetta Di cosa ne hai stupenda Orca, dove è? Cavolo, ci sono troppi messaggi C'era un messaggio che dice Passa un pochino la mia Allora c'era un messaggio che dice Di tornare al Jazz Club di non so quale Allora, torna presto al Bebop Jazz Club Stefano Elbo Ciao Stefano È un locale storico del jazz a Roma Ci sono stati più grandi là Ogni tanto ci suono Ci sono stati più grandi là Sì, 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 sì Bel locale Ma no, ma poi fra l'altro noi adesso Io con il Barone Rosso e in futuro Vorrò anche dare spazio A tutti i locali dove far fare musica dal vivo Pubblicizzare tutti Dov'è il Bebop Jazz Club? Io sono una frana con le vie E ora mi hai perso Vabbè, sono fatto tanti buracchi Questo è il primo tentativo che facciamo Disastroso No, vabbè, è Roma No, no, Roma Dov'è Emery? A Piramide, ok, vicino a Piramide A Piramide, vicino a Piramide Il Bebop Jazz Club di Roma Andate perché c'è musica dal vivo Adesso questa canzone Vado da Grazia a chiedere Cos'è questa canzone Perché anzi no Vado da... Allora Che canzone? Allora È un brano che io ho scritto Mentre mi trovavo Non a Roma chiaramente Quindi era Una situazione di quelle After show Un po' così confuse E E Da quest'idea Dico Vabbè Adesso ragazzi Io non ce la faccio più È tardi Io devo tornare a Roma Per cui No, dai Ancora, ancora Vabbè Allora così E ti lascio Ancora, ancora Per come Ancora, vabbè È un po' Come lo dici Sembra ancora, ancora Vabbè Sono Diciamo Sono due situazioni Parallele Anche un po' così Fantasiose No Una delle due Lascia lo spazio a quell'altra Ma insomma Io non Se sapevo spiegare Le mie canzoni Non Cioè Non le scrivevo Fatto sta che Gli lascio un perizoma Come ricordo E quindi E io mi ricordo Io invece mi ricordo Che Grazia Mi ha chiamato Dice Guarda Ho beccato una Che mi ha fatto morire Ho fatto una canzone Con sto perizoma E mi è rimasto in testa Sto perizoma Perché tu puoi fare rima con Roma In tanti modi Ma con perizoma La rima del perizoma Che però è una storia vissuta Perché ci sono queste notate etiliche Che uno deve tornare via improvvisamente Certo A casa E non trova la canzone Rome sweet home E non trovai più la mutanda E' chiaro Eh beh no Se trovavo Quando uno sta un po' Diciamo Più o meno Insomma Ricordi confusi Vabbè Allora In realtà Questo è Un pezzo Del duo La birra Che sono Grazie di Michele E Francesca De Fatti Cerco di seguire Come no Come andiamo ancora al zonzo Come no Qui tra poco si fa giorno Non vedi sto in coma Devo tornare a Roma Come no Bevi non ancora al zonzo Perché no Se non dormo Esco di senno Però ti lascio il perizoma Devo tornare a Roma Vieni con me Prendi un caffè Corretto al liquore Di tutto il mio amore Yeah Magari diventa un sogno Tra meno di una semicroma Vado per Roma Come on Rome 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 Sweet home Rome 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 Sweet home Devo scordare L'Oklahoma Per ritornare a Roma E che c'è solo? Solo Yeah Ah Vieni con me Prendi un caffè Corretto al liquore Di tutto il mio amore Yeah Madonna Quando sei sprozzo Devo scordare L'Oklahoma Devo tornare a Roma Come on Rome 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 Sweet home Rome 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 Sweet home Se vuoi ti lascio il ferizoma Fammi tornare a Roma Rome 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 Rose Sweet home Rome 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 Devo scordare l'Arizona New Jersey Kentucky Rocca Secca Ischia Poggio San Lorenzo Frascati Afragola Mesesipi Oklaoma Lusiana Aida Aida Lusiana Per Afragola Per Afragola Per ritornare A nord Per ritornare a nord Per ritornare a nord Arrivederci cago Arrivederci cago Non si può sentire No Fratro Ha ruinato tutta l'esibizione Prato lei Dobbiamo stare attenti Questa è la prima uscita Arrivederci cago Non ce la faccio E non ce la faccio Afragola pure Non ce la posso fare No vabbè Speriamo bene Chi facciamo adesso grazie Chi facciamo esibire Un brano tutto corale Tutti quanti insieme Facciamo una cosa Magari Se c'è tempo invece Tempo C'è tempo ancora Il brano corale Facciamo alla fine Ah ok Finiamo con quello corale Abbiamo ancora 20 minuti Quindi possiamo cominciare Chi facciamo Abbiamo fatto tutti i due pezzi Giusto Tu Lei però ne ha fatto No Lei l'ha fatto L'ha fatto L'ha fatto più L'ha fatto più L'ha fatto per oggi Vai al piano Vai al piano Guarda quella del Siccome Io dico che lei È un elfo Che viene dai boschi La vedi com'è Sì Sì In effetti È in un suo mondo di boschi Di folletti Di gnomi Di maghi Ma non lo vedi Ma anche com'è conciata Vedi Con sta collanina Sta camicia Lei viene da quel mondo lì Infatti adesso canta Coniglio bianco Il coniglio bianco È vero È vero È contenuto di chiaro Ecco Confesso di averla inserita nel disco Non è ambientata Insomma Nel paese degli elfi Però In realtà È un suggerimento Se ogni tanto ci andassimo Forse Troveremo qualche Qualche mondo Più interessante Vedi Vedi che l'ho capita Io l'ho vista E l'ho capita Attenta alla chitarra Sì Allora Allora Questa volta C'è nel disco Di vieto Di sbagliare La canzone è Il coniglio bianco Ok Lei si chiama Eleonora Betti Ed è Sono curioso di aprirlo Questo disco Perché non l'ho aperto ancora Vediamo un po' Cosa c'è dentro Ah Guarda Ah c'è un coniglio bianco Dentro C'è un coniglio bianco No Hai visto Cioè ma Io che sento l'istinto Di aprire Mentre lei fa il coniglio bianco Vedi Giuro non lo sapevo Vedi Bianconiglio Il bianconiglio Siamo Alice Nel paese delle meraviglie Giusto Allora Eleonora Betti Il coniglio bianco Segui Il coniglio bianco Per Che non hai Mai tempo Di perdere il tuo peggio Di cogliere il mio mondo Come Se sputassi il tuo sangue Per di colore Ti rifugi nel cerchio della ragione Nel non vivere niente Nel non vivere niente Nel non vivere niente Segui il coniglio bianco E per via di un altro mondo Rimane Rimane poco tempo Per esplorare il sogno Placche di quell'ansia il vento Con pillole di oppio Sono poveri Sono poveri di senso Nel non vivere niente 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 Segui il coniglio bianco Per via di un altro mondo Rimane poco tempo Per esplorare il sogno Nel non vivere niente No 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 Come Se sputassi il tuo sangue e perdi colore e ti rifugi nel cerchio della ragione e nel non vivere niente nel non vivere niente nel non vivere niente segui il coniglio bianco per via di un altro mondo rimane poco tempo per esplorare il sogno Eleonora Betti e stanno dicendo segnatevi questo nome è bello perché uno ha scritto adesso l'ho perso fate cantare insieme la pazza napoletana e l'elegante toscana la pazza napoletana sarebbe lei e lei sarebbe l'elegante toscana si è vero però pazza è vero elegante è vero ma anche lei è normale sì no ma i gnomi, l'elfi e fate nel frattempo pazza napoletana vai pazza napoletana cercasi felicità cercasi felicità senti bambina tu invece che traumi hai che problemi hai altrimenti non saresti qui ma forse tanti è anche difficile poi individuarne uno il che già ti dà la dimensione del dramma insomma nel trovare una difficoltà ma non lo so io ho avuto un sacco di alti e bassi no, dieci di no però effettivamente ho fatto percorsi stranissimi sono finita a Londra non so bene neanche come sia sopravvissuta il mio anno londinese finendo a vivere in case dove succedevano cose ancora più assurde dell'assurdo che mi sentivo dentro tipo non so gente pazza che girava con i coltelli in tasca una volta uno questa la racconto non l'avevo mai raccontato una volta ritorno a casa in casa in cui abitavo con altre 14 persone e io ero un periodo un po' difficile per me quindi ogni tanto tendevo ad avere questi attacchi d'ansia allora ero lì che dicevo no aspetta c'era un tizio che mi metteva un po' d'angoscia dico ma è solo la mia testa cioè sono io che so lì che ripenso ripenso ma non è così sono tutta io che sto esagerando questa situazione e mi ricordo che continuavo a pensare ininterrottamente a questo finché non apro la porta di casa e io me lo ritrovo in piedi come nei film con un coltello lungo così che mi ha spettato oddio mamma e lì la cosa ecco forse quella è una delle cose diciamo alla fine più divertenti che posso raccontare perché è stato talmente forte il contrasto tra quello che io mi ero detta fino a quel momento e sto tizio che effettivamente era lì a rappresentare il mio incubo che io sono scoppiata a ridere e gli ho dato anche una discreta risposta insomma e quindi niente alla fine ecco sono forse il risultato di questa sembianza da non so a volte me lo dicono un po' da fatina però in realtà poi nel quotidiano mi succede un po' di tutto anche cose non proprio da fatina e io devo dire che finora sono sopravvissuta abbastanza bene quindi spero di continuare così ma poi hai avuto vieni vieni nona poi hai avuto vieni con me hai avuto anche una sfortuna perché tu sei capitata a Londra in un periodo casinato perché cercavano delle pazze che avevano rubato un diario a Paul McCartney esatto ora ho capito tutto infatti cioè si è chiuso il mio cerchio ecco oggi non riuscivo bene a capire cosa fosse successo in realtà stavano pensavano che fossi io ecco e invece invece no ecco purtroppo no l'aveva già restituito invece tu che la canti adesso? io canto cercasi felicità che ho cantato al teatro Ariston durante il Fiat Music che hai anche vinto è un'emozione straordinaria cantare questa canzone al teatro Ariston presentata in un contesto musicale realizzato da Red Ronny va bene allora cercasi felicità lei è Claudia Megret cercasi felicità ok basta così ma che ci faccio qui mi spiace mai così per me finisce qui io sono stanca ormai tanto non cambierai io non ne posso più la vuoi sempre pinta tu sempre la solita storia non ti sei mai chiesto cosa pensassi io non guardo auto importanti non voglio scarpe reganti non chiedo borse brillanti cercasi felicità a me bastava soltanto che tu mi dessi il tuo tempo non voglio mica la luna cercasi felicità cercasi felicità cercasi felicità tu con gli amici tuoi a cena quando vuoi tu con gli amici miei ma chi ti ha visto mai Natale con i tuoi e Pasqua con chi vuoi tu che la vuoi sempre vinta tu sempre la solita storia non ti sei mai chiesto cosa pensassi io non guardo auto importanti non voglio scarpe eleganti non chiedo borse brillanti cercasi felicità a me bastava soltanto che tu mi dessi il tuo tempo non voglio mica la luna cercasi felicità cercasi felicità cercasi felicità cercasi felicità non guardo auto importanti non voglio scarpe eleganti non voglio scarpe eleganti non voglio scarpe eleganti non chiedo borse brillanti a me bastava soltanto che tu mi dessi il tuo tempo non voglio mica la luna cercasi felicità cercasi felicità cercasi felicità vieni qua claudia vieni qua claudia sedi di qua allora noi grazie quando abbiamo visto a Sanremo no quando abbiamo visto la Ilaria ci è venuto in mente subito la Gabriella la Gabriella Ferri esatto e quindi lei perché per me anche se lei è di origini sarde perché ha la Giola la Giola la Giola la Giola la Giola però ci è venuto in mente e lei vuol fare un pezzo vuol fare un omaggio a Gabriella Ferri sì poi è una cosa un po' strana perché ho scoperto questo brano ma non avevo mai visto il video e non sapevo fosse lei a cantare questo pezzo quindi mi sono ritrovata a farlo senza che io sapessi fosse lei poi siccome in quest'ultimo tempo tutti mi hanno detto beh c'è un po' di somiglianza non lo so e quindi voglio fare questo pezzo e dedicarlo a queste fantastiche ragazze e lo dedico anche a me perché qualcuno ha avuto la geniale idea di scrivere questo pezzo per tutti gli innamorati che si odiano e quindi fa così tu non mi piaci più che voi amore mio di ma quando è che te ne vai tu di ma quando è che te ne vai si si te voglio tanto male managgia a me managgia a me managgia a noi tu non mi piaci più non mi piaci più ma non mi piaci più non mi piaci più non mi piaci più talento su sto divano su sto divano in due ore oggi che in dieci anni di Sanremo questo è è una bella una bella cosa però brava Ilaria mamma mia non ci sono parole solo brividi tutte brave tutte speciali sono tutti messaggi che ci sono che sono molto allora a questo punto noi abbiamo vieni qui Ilaria vieni qui tutti con noi allora a questo punto noi dobbiamo decidere mi hanno chiesto le ragazze di Gauguin non lo so lo vuoi fare o no ma sì io volevo fare non volevo essere protagonista io ma che fossero loro quindi non mi va di autocelebrati Roberta Giallo tornerà che tornerà a fare quella cosa anzi abbiamo già detto che probabilmente lei tornerà il primo d'aprile perché c'ho Jimmy Villotti qui che è un chitarrista jazz straordinario che oggi fra l'altro l'ha visto lui oggi ha incontrato Jimmy Villotti e quindi quindi tornerà allora adesso facciamo un finale collettivo ok quindi vi preparate io mentre voi vi preparate io faccio vedere tutti i vostri siti internet per trovarvi quindi avete scelto una canzone di Tracy Chapman che avete scelto grazie sorry no baby I can no quale abbiamo scelto alla fine baby I can hold you ecco quella lì perché ne abbiamo provate diverse poi abbiamo deciso di fare questa alla fine allora io volevo farvi vedere i siti di queste ragazze allora questo lei è Francesca De Fazzi Francesca De Fazzi sul sito ha scritto che è nata a New Orleans ma non è vero l'ha messo come come cuore nata a New Orleans quindi vatti a preparare ci sei anche tu poi dopo quella invece è Eleonora Betti Eleonora Betti è la ragazza del coniglio bianco toscana quelle che sembrava normale poi abbiamo scoperto che trova gente col coltello vabbè poi c'è Claudia Megre invece la napoletana molto brava questa ragazza napoletana Ilaria Argiolas appena fatto un pezzo di amnesia totale di Gabriele Ferri esatto poi c'è Roberta Giallo queste sono le date del suo tour mondiale Mosca Chievi Istanbul Los Angeles Singapore e Monte Carlo quindi mancano Monte Carlo poi c'è un'altra c'è un'altra che è mi ricordo più dove ah in Portogallo grazie di Micheli grazie di Micheli questo è per adesso quello che sta facendo perché lei fa parte anche di musica cultura eccetera questo è il 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 concerti che sta facendo a Roma al teatro Golden ok va bene questo è quanto è successo adesso ascoltiamo questa canzone dove ci sono tutte queste ragazze insieme la canzone è di Tracy Chapman e sentiamo cosa succede noi provisiamo ok vai aspetta prova il microfono microfono prova il microfono Laura eh no Eleonora prova il microfono perfetto perfetto ok Ilaria Ilaria tu come canti e orle 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 ok allora questo è il finale di una serata interamente dedicata alle ragazze bellissimo non tutte ragazze di Gauguin queste vai orle orle Worse don't come easily Like sorry, like sorry Forgive me It's all that you can say It's gone by and still Words don't come easily Like forgive me, please forgive me But you can say, baby Baby, can I hold you tonight Baby, if I told you the right ones At the right time You'll be mine Baby, can I hold you tonight Baby, if I told you the right ones At the right time You'll be mine I love you I love you It's all that you can say Years gone by and still Words don't come easily But you can say, baby Like you love me I love you I love you At the right time At the right time At the right time You'll be mine Baby, can I hold you tonight Baby, can I hold you the right Baby, can I hold you the right ones At the right time AA- Grazie a Claudia Megret, Ilaria Argiolas, grazie a Michele, a Roberta Giallo, Francesca De Fazzi e Eleonora Betti, grazie a tutte queste ragazze meravigliose che hanno fatto una serata, tutta il femminile qui al Borre Nostro, c'è chi ha scritto questa diretta da scolpire nella pietra, no in realtà è da rimanere nella memoria oppure vattela a rivedere perché ce l'hai su tutti, finché la lasceremo su tutti i social, grazie, che bella serata ragazzi, perché ridete? Grazie a tutti! Peccato, peccato finisca. Peccato, no, infatti peccato finisca perché noi continuiamo, noi abbiamo la chitarra in camera in albergo, quindi noi continueremo, andremo avanti e stiamo creando repertorio, quindi chi si ferma qui scontinua sicuramente. Però, voglio dire, spazi così non ce ne sono, perché non è una questione di spazio, è una questione di quello che c'è dentro lo spazio, dell'aria che si respira, della passione per la musica. Per, prego. Potresti fare il Barone Rosa, uno spazio all'interno del Barone Rosso, Rosa, dove arrivano le cantautrici. Un po' Rosè, Barone Rosè. Però tu non ci potresti essere, sei Roberta Giallo e non stai nel Rosa. No, beh, io Roberta Giallo e va al Barone Rosa. Giallo e Rosso, vabbè. Chi sei da Roma? Grazie. No, che dà, io so da Lazio, tu sei da Roma. Non scherzato? No, vabbè, no, vabbè. Ti vinto di Campacqua, tu non torni. Ma Lazio, davvero? No, è già prima detto c'è il 40, ma è laziale. Da Roma? Ma che sei matta? No, non scherziamo, capiremo, hanno vinto pure il derby. Ma no, abbiamo vinto, lasciamo stare. Era scritto. Era scolpito nella pietra, come ha detto lui prima. Argiò, mi cade un mito? E beh, mi sei caduta pure. Allora, questa è la dimostrazione che le donne si stanno non solo emancipando, ma stanno prendendo il nostro posto. Una discussione del calcio, tra cantautrici e femminili, sul calcio non me la sarei mai immaginata. Di solito è degli uomini che stanno lì nel bar, che stanno parlare solo di quello. Sentì parlare le donne. Sono rimasto abbastanza scioccato. Diciamo che se chiudevamo la diretta un pelo prima, due minuti prima, era meglio. Però, vabbè. Sono veramente male, dico. Però non è vero che sono della Lazio, che volevo vedere se aveva carattere. Si fa così. Ah, sei da Roma, quindi? Non so di niente, perché non sei... Allora, no, vabbè, così, no, allora, no, vabbè, comunque... Hai visto con che occhio speranzoso appena ha chiesto? Ma, secondo me, devi fare musica, no? Che è sta cosa? No, no, ma la Roma sta dentro, cioè, forza Roma sempre, quella è un'altra cosa. Per favore, andiamo, dai. Ma che è? Ma chiuso male. Buonanotte. Ciao. Ciao. Buonanotte. 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 Buonanotte.